Gotama Buddha Sidrta Gotama, meglio conosciuto come Gotama Buddha, il Buddha storico, Buddha Chiamuni, Chiamuni, il saggio di Chia o semplicemente Buddha, conosciuto in italiano arcaico come Gotamo Buddha sanscrito e Pli Buddha, cioè il risvegliato o l'illuminato, Lombini, 8 aprile 566 Hachikushinagar, 486 Hachikushinagar, è stato un monaco buddista, filosofo, mistico e asceta indiano, fondatore del buddismo, una delle più importanti figure spirituali e religiose dell'Asia e del mondo. L'esistenza di Gotama è collocata tradizionalmente tra il 566 anno corrente e il 486 anno corrente, ma, data la contraddittorietà delle fonti, studi recenti la pongono due secoli più tardi. Egli proveniva da una famiglia ricca e nobile del clan degli Chia, da cui anche l'appellativo Chiamuni la sceta o il saggio della famiglia Chia. Indice. 1. Un solo Gotama Buddha, diversi nomi. 2. La vita di Gotama Buddha secondo le tradizioni buddiste. 2.1 vite anteriori del Buddha. 2.2 le fonti. 2.3 la nascita. 2.3.1 la genealogia. 2.4 la fuga. 2.5 la pratica della meditazione. 2.6 l'illuminazione. 2.7 la messa in moto della ruota del Dharma. 2.8 predicazione ed insegnamento. 2.8.1 scansione dei vassa. 2.8.2 le prime conversioni. 2.8.3 a Capilavattu e nel Kosala. 2.8.4 a Rajgir. 2.9 il Parinirva del Buddha. 2.9.1 la cremazione. 3 pensiero filosofico e dottrina religiosa. 4 la vita del Buddha nell'Occidente medievale. 4.1 Barlaam e Jassafat. 4.2 Sargamo Borghani. 5. Gotama Buddha nell'induismo. 6. La vita di Gotama Buddha secondo la storiografia contemporanea. 7. Iconografia. 8. Note. 9. Bibliografia. 10. nella cultura di massa. 11 voci correlate. 12 altri progetti. 13 collegamenti esterni. Un solo Gotama Buddha, diversi nomi. Il termine sanscrito e Pli Buddha indica, nel contesto religioso e culturale indiano, colui che si è risvegliato o colui che ha raggiunto l'illuminazione. Altri appellativi con cui viene spesso indicato Gotama Buddha sono i termini sanscriti. Tatgata, il così andato o il così venuto, epiteto con cui Gotama Buddha indica se stesso nei suoi sermoni, uguale alla forma Pli che compare di frequente nel canone Pli. Chiamuni, il saggio dei Chia, riferito al clan a cui apparteneva Gotama Buddha, utilizzato soprattutto nella letteratura del buddismo Meina, Satghamuni nel canone Pli. Sugata, il bene andato, utilizzato soprattutto nell'ambito delle scritture del buddismo Varaina ma frequente anche nel canone Pli. Baghaven, signore, venerabile, illustre, beato, sublime, perfetto. Dal sostantivo sanscrito Baga, ricchezza, fortuna. Nella letteratura buddista indica il buddha. Bodhisattva, colui che sta percorrendo la via per diventare un buddha, o colui che cerca di conseguire il risveglio o colui la cui mente, sattva è fissa sulla bodhi, usato per indicare Gotama prima del conseguimento della condizione di buddha. Nella letteratura di scuola Theravda viene indicato con il nome Pli di Gotama Buddha. La vita di Gotama Buddha secondo le tradizioni buddiste. Vite anteriori del Buddha. Nella tradizione buddista la vita di Gotama sarebbe stata preceduta da innumerevoli altre rinascite. In una prospettiva buddista tali rinascite non coincidono con il concetto di metempsicosi, o trasmigrazione di un'anima individuale, in quanto il concetto di sé permanente, Thman, è esplicitamente negato con la dottrina dell'Antman. Non sono forme di reincarnazione, ma scandite dalla successione di vite legate fra loro dalla trasmissione degli effetti del karma. Queste jtaka, vite anteriori, che nella tradizione fanno parte integrante della vita di Gotama, furono incluse nel canone buddista e sono formate da 547 racconti edificanti in cui compaiono animali, dei, e uomini delle più diverse estrazioni sociali e castali. Le fonti. Sulla vita di Gotama Buddha esistono numerose tradizioni canoniche. La più antica biografia autonoma di Gotama Buddha ancora oggi disponibile è il Mavastu, un'opera della scuola Locotta Ravda del buddismo dei Niki a risalente agli inizi della nostra era, redatta in sanscrito ibrido. Esistono anche il Lalitavistara, il Buddha Carita di Avagoa e L. Abini Kramastra. Di quest'ultimo sutra, dal titolo in lingua cinese Fobini Xingjiri JNG, sono disponibili ben cinque versioni nel canone cinese, conservate nel Biyan Biu. Più tarda, IV, V secolo X, è la raccolta biografica, sempre autonoma, contenuta nel Mla Sarb Steve Davinaia Vibaga. Episodi della sua vita non come biografie autonome si conservano anche nelle raccolte dei suoi discorsi riportati negli Gamanichia. Secondo Eric Frauhlner tutto questo materiale biografico, autonomo o inserito nelle raccolte dei sermoni di Gotama Buddha, farebbe parte di una prima biografia composta un secolo dopo la sua morte, e inserita come introduzione allo Skandaka, a sua volta un testo del Vigna. Di diverso avviso sono altri studiosi come Etienne Lamate e Andre Barreau per i quali invece le biografie di Gotama Buddha hanno subito una graduale evoluzione partendo proprio dalle narrazioni episodiche contenute negli Gamanichia e nei Vigna per poi evolversi nelle raccolte autonome come il Mavastu. La nascita. Nel complesso queste biografie tradizionali narrano della sua nascita avvenuta nel Nepal meridionale, a Lombin 9, non distante da Kapilavastu, e raccolgono numerosi racconti e leggende che hanno l'obiettivo di evidenziare la straordinarietà dell'avvenimento, miracoli che ne annunciano il concepimento, chiari segnali che il bimbo che stava per venire al mondo sarebbe stato un bulba. La sua famiglia di origine, che a significa potenti, si dice fosse ricca, una stirpe guerriera che dominava il paese e che aveva come capostipite leggendario il Reik Vuku. Il padre di Siddhartha, il Ria Suddodhana, regnava su uno dei numerosi stati in cui era politicamente divisa l'India del Nord. La madre di nome MY, o Mami, è descritta di grande bellezza. Suddodhana e MY erano sposati da molti anni e non avevano avuto figli. Nel Buddha Carita si racconta che Mami sogno che un elefante bianco le penetrò nel corpo senza alcun dolore e ricevette nel grembo, senza alcuna impurità, Sid Barta che fu partorito nel bosco di Lumbin, dove il figlio le nacque da un fianco senza alcun dolore. Sid Barta, sempre secondo il racconto del Buddha Carita, nacque pienamente cosciente e con un corpo perfetto e luminoso e dopo sette passi pronunciò le seguenti parole. Per conseguire l'illuminazione io sono nato, per il bene degli esseri senzienti, questa è la mia ultima esistenza nel mondo. Ava Goa. Buddha Carita, canto 1, 15 Sempre secondo il Buddha Carita, canto 1, dopo la nascita di Sid Barta furono invitati a corte bramani e asceti per una cerimonia di buon auspicio. Durante questa cerimonia si racconta che il vecchio saggio Assita trasse, com'era con suetudine, l'oroscopo del nuovo nato e riferì ai genitori dell'eccezionale qualità del neonato e la straordinarietà del suo destino, tra le lacrime, spiegò che egli sarebbe infatti dovuto diventare o un monarca universale, Chakravartin, Sanz, Kakavatin, PLI, oppure una scelta rinunciante destinato a conseguire il risveglio, che avrebbe scoperto la via che conduce al di là della morte, ossia un bulba. Alla richiesta di spiegazioni sulla ragione delle sue lacrime, il vecchio saggio spiegò che erano dovute sia alla gioia ad aver scoperto un tale essere al mondo, sia alla tristezza che gli derivava il constatare che la sua età troppo avanzata non gli avrebbe permesso di ascoltare e di beneficiare degli insegnamenti di un tale essere realizzato. Si fece pertanto giurare dal nipote Nlaka che lui avrebbe seguito il maestro una volta che fosse cresciuto e che ne avrebbe imparato e messo in pratica gli insegnamenti. Il padre rimase turbato dalla possibilità che il figlio lo abbandonasse, privandolo della legittima successione al trono, e organizzò tutto quanto potesse impedire l'evento premonito. La madre Mypsilon morì a soli sette giorni dal parto e il bimbo venne quindi allevato dalla seconda moglie del re Suddodana, Papat, una sorella minore della defunta Mypsilon, nel più grande sfarzo. Figlio, quindi, di un Ria, cioè di un capo eletto dai maggiorenti cui era affidata la responsabilità del governo, ricevette il nome di Sid Barta, uguale quegli che ha raggiunto lo scopo, Gotama, l'appartenente al ramo Gotra degli Chia. Sid Barta mostrò una precoce tendenza contemplativa, mentre il padre l'avrebbe voluto guerriero e sovrano anziché monaco. Il principe si sposò giovane, all'età di 16 anni, con la cugina Baddakakn, nota anche con il nome di Yashodar, con la quale ebbe, 13 anni più tardi un figlio, Rula. Nonostante però fosse stato allevato in mezzo alle comodità e al lusso principesco e fatto partecipare alla vita di corte in qualità di erede al trono, la profezia del saggio Asita puntualmente savverò. La fuga. I resti della porta orientale di Capilavastu, da cui si suppone Gotama sia uscito, abbandonando la vita di Agi Palatini. A 29 anni, ignaro della realtà che si presentava fuori della reggia, uscito dal palazzo reale paterno per vedere la realtà del mondo, testimoniò la crudeltà della vita in un modo che lo lasciò attonito. Incontrando un vecchio, un malato e un morto, altre fonti narrano di un funerale, compresse improvvisamente che la sofferenza accomuna tutta l'umanità e che le ricchezze, la cultura, l'eroismo, tutto quanto gli avevano insegnato a corte erano valori effimeri. Capì che la sua era una prigione dorata e cominciò interiormente a rifiutarne agi e ricchezze. Poco dopo essersi imbattuto in un monaco mendicante, calmo e sereno, decise di rinunciare alla famiglia, alla ricchezza, alla gloria e dal potere per cercare la liberazione. Secondo il Buddha Carita, canto Quinto, una notte, mentre la reggia era avvolta nel silenzio e tutti dormivano, complice il fedele Auriga Shandaka, montò sul suo cavallo Kantaka e abbandonò la famiglia ed il reame per darsi alla vita ascetica. Secondo un'altra tradizione comunicò la propria decisione ai genitori e, nonostante le loro suppliche e lamenti, si rasò il capo e il volto, smise i suoi ricchi abiti e lasciò la casa. Fece voto di povertà e compì un percorso tormentato di introspezione critica. La tradizione vuole che egli abbia intrapreso la ricerca dell'illuminazione a 29 anni, 536 anno corrente. La pratica della meditazione. L'ingresso della grotta sul monte Pragvodi in cui Gotama praticò la vita ascetica prima dell'illuminazione. Dopo la fuga dalla società, a Vinicramaha, Gotama si diresse dalla asceta Rakima che soggiornava nella regione del Kosala. Lì si esercitò sotto la sua guida nella meditazione e nell'ascesi, per conseguire la Kinkanya Yatana, la sfera di nullità che per Rakima coincideva col fine ultimo della liberazione, Moka. Insoddisfatto del conseguimento, Gotama si spostò quindi verso la capitale del regno Magadhi a perseguire gli insegnamenti di Udda Karmaputta. Per questi la liberazione era conseguibile attraverso la meditazione che, esercitata tramite le quattro Iena, portava alla sfera del Nevasa Ninsean Yatana, la sfera della né percezione né non percezione. Pur avendo raggiunto la meta indicata dal maestro, Gotama non si ritenne soddisfatto e decise di lasciarlo per stabilirsi presso il piccolo villaggio di Uruvel, dove il fiume Nera Niar, l'odierno Nijan, confluisce nel Mohan per formare il fiume Falgu, a pochi chilometri dall'odierna Bodhgaya. Qui trascorse gli ultimi anni prima dell'illuminazione, insieme a cinque discepoli di famiglia bramanica, i venerabili Anna Condanna, Baddia, Vappa, Manma e Asahi di cui era divenuto a sua volta maestro spirituale. Le pratiche ascetiche, dietetiche e meditative che sviluppò in questo periodo non sono note, anche se la tradizione successiva le descrive particolarmente austere. Ad un certo punto anche questa strada si dimostrò priva di sbocchi e, comprendendo l'inutilità delle pratiche ascetiche estreme ed è l'automacerazione, tornò a una dieta normale accettando una tazza di riso bollito nel latte offertagli da una ragazza di nome Sujad. Ciò gli costò la perdita dell'ammirazione dei suoi discepoli, che videro nel suo gesto un segno di debolezza e lo abbandonarono. Desideroso di conoscere le cause della miseria presente nel mondo, Gotama capì che la conoscenza salvifica poteva essere trovata solo nella meditazione di profonda visione e che questa poteva essere sostenuta solo se il corpo fosse stato in buone condizioni, non spossato da fame, sete e sofferenze auto inflitte. L'illuminazione. Il Tempio Mahabodi, nel luogo dell'illuminazione del Bulba. A 35 anni, nel 530 anno corrente, dopo sette settimane di profondo raccoglimento ininterrotto, in una notte di luna piena del mese di maggio, seduto sotto un albero di fico a Vodgaia a gambe incrociate nella posizione del loto, a lui si spalancò l'illuminazione perfetta, e gli meditò una notte intera fino a raggiungere il Nirva. Il Buddha conseguì, con la meditazione, livelli sempre maggiori di consapevolezza, afferrò la conoscenza delle quattro nobili verità ed è lo tuplice sentiero e visse a quel punto la grande illuminazione, che lo liberò per sempre dal ciclo della rinascita, da non confondersi con la dottrina induista della reincarnazione, che fu esplicitamente rigettata con la dottrina del non-sè, Ant-Man. La prima settimana dopo l'illuminazione Gotama Buddha rimase in meditazione sotto la ficus religiosa. Altre tre settimane le passò meditando sotto tre altri alberi, la prima sotto una yapla, ficus benjalensis o ficus indica, la seconda sotto un mucalinda, sanscrito, mucilinda, barintonia acutangula, la terza sotto un riatana, biucanania latifolia. Sotto l'a yapla fu raggiunto da un brmaa che lo interrogò sulla natura dell'essere brmaa, e la risposta fu che tale è che ha sradicato il male e parla in accordo con il dharma, smentendo così implicitamente che fosse dovuto a una condizione dettata dalla nascita e dall'appartenenza di casta. Durante la meditazione sotto il mucalinda si sviluppò un temporale che durò sette giorni, ma uno spirito serpente del luogo, unga, protesse il Buddha dalla pioggia e dal freddo. Sotto il riatana il Buddha sperimentò la gioia della liberazione dalle rinascite. In quella circostanza gli fecero visita due mercanti, Tapusa e Ballika, che gli offrirono dei dolci al miele e presero rifugio nel Buddha e nel suo dharma, divenendo così i primi Upsaka, seguaci laici. Nella settimana seguente il Buddha tornò a meditare sotto l'a yapla, e si interrogò se dovesse diffondere la dottrina o se dovesse mantenerla solo per sé, essendo difficile da comprendere, al di là della ragione, comprensibile solo ai saggi. Brahm, il signore del mondo, giunse di fronte al Buddha e inginocchiato si lo implorò di diffondere la sua dottrina per aprire i cancelli dell'immortalità e permettere al mondo di udire il karma. Avendo dunque il Buddha deciso di diffondere la sua dottrina, senza alcuna distinzione, dopo aver escluso i suoi precedenti maestri, Rakima e Udba Karmaputa, in quanto conscio della loro già avvenuta morte, decise di recarsi dapprima a SRNTH, nei pressi di Varanasi, Banaris dei suoi primi cinque discepoli, i pancavaggi. Nei pressi di SRNTH si imbatte nella scelta upaca, della scuola degli Jvika, deterministi che non accettavano l'idea di una causa né nella possibilità di modificare il destino. Interrogato su di chi fosse seguace, il Buddha rispose di non aver più maestri e di essere perfettamente illuminato quanti hanno vinto l'illusione sono come me vittoriosi. Ho vinto quanto è male e così, upaca, sono il vittorioso. Upaca ribatte può darsi e se ne andò. La messa in moto della ruota del Dharma. Il Buddha giunse infine a SRNTH, nel parco delle gazzelle, dove trovò i pancavaggi, che avevano intenzione di ignorarlo. Ma il suo aspetto radioso e completamente rilassato li vinse immediatamente. Alla notizia che aveva conseguito il perfetto risveglio lo accolsero come maestro e gli chiesero di condividere quanto aveva scoperto. Le parole che pronunciò allora si sono conservate nel primo brevestra, il Dhamma KK Vatanavadda Sutta, la messa in moto della ruota della dottrina, che si apre con la condanna delle due vie estreme, l'estremismo connesso alla mera appagazione dei sensi, volgare e dannoso, e l'estremismo connesso all'automortificazione, doloroso, volgare e dannoso. Quella del Buddha si presenta invece come una via di mezzo, apportatrice di chiara visione e di conoscenza che conduce alla calma, alla conoscenza trascendente, al risveglio, al Nibna. Quindi il Buddha analizza il contenuto della via di mezzo, illustrando l'ottuplice sentiero, la base del comportamento etico quale causa necessaria per il conseguimento del risveglio. Ma, procedendo a ritroso, il Buddha spiega il motivo per cui questo sentiero apporta l'approdo alla sponda opposta al Sasra, questo è dettato dalle quattro nobili verità. La prima delle quattro verità è quella del dolore l'unione con quel che non si ama è dolore, la separazione da quel che si ama è dolore, il non ottenere ciò che si desidera è dolore. Quindi la combinazione dell'impermanenza dell'esistente e l'attaccamento è la causa del dolore, la seconda verità. Questa sarebbe poi stata ampiamente discussa e analizzata dal Buddha nel corso di tutta la sua predicazione, fino a trovarne la formalizzazione nella Paika Samupta, la catena della coproduzione condizionata, in cui ogni causa ha un effetto, una spirale apparentemente invincibile. Ma la distruzione della schiavitù del dolore è possibile, la terza verità, la liberazione è possibile. E come è il tema della quarta verità, che rimanda allo tuplice sentiero da cui si era partiti. Il Buddha quindi proclama che ciascuna di queste verità è stata da lui riconosciuta, compresa e visualizzata, e questo triplice momento della quadripartizione della verità lo ha portato al supremo perfetto risveglio. A questo punto Anna condanna divenne a rate ed esclamò, tutto quello che nasce è destinato a perire. Egli dei cioni e di tutti i paradisi gridarono di gioia, il sistema dei diecimila mondi ebbe un sussulto e apparve un grandioso splendore, la ruota del Dharma era stata avviata. Anna condanna divenne primo BKU a essere ordinato, con la celebre esclamazione del Buddha e BKU. Vieni Monaco. Che diverrà la formula tradizionale di ordinazione buddista, e dando così origine al Saga. La predicazione del Buddha segnò sotto molti aspetti un punto di radicale rottura con la dottrina del Brahmanesimo, che poi prese la forma di induismo, e dell'ortodossia religiosa indiana dell'epoca. Infatti, in maniera non dissimile da quello del fondatore del Jainismo, Mavra, il suo insegnamento non riconosceva il predominio della casta bramanica sull'ufficio della religione e la conoscenza della verità, bensì a tutte le creature che vi aspirino praticando il Dharma. Predicazione ed insegnamento. Negli anni successivi al Nirva, il Buddha si spostò lungo la pianura gangetica predicando ai laici, accogliendo nuovi monaci e fondando comunità monastiche che accoglievano chiunque, indipendentemente dalla condizione sociale e dalla casta di appartenenza, fondando infine il primo ordine monastico mendicante femminile della storia. A condizione che l'adepto accettasse le regole della nuova dottrina, ognuno era ammesso nel Sangha. Scansione dei Vassa. A causa dell'assenza di una tradizione storiografica e cronologica in India, la scansione dei suoi spostamenti non fu registrata che molti secoli dopo gli eventi, e anche questa in maniera frammentaria nei vari sutra e nei vigna delle varie tradizioni. Tra i testi più interessanti per la cronologia spiccano due testi tradotti in cinese, il Badalinta Mingao Jing, T.32, 773b, e il Senki e Luoccia Suo Kijing, T4, 144b, e un testo tibetano, il Cosbyung di Boston. Nella tradizione birmana si riscontrano altre cronologie. Dalla comparazione di queste fonti, scandite per anno di vita del Bulba, si enumerano i luoghi in cui passò il Vassa, o periodo monsonico dedicato alla sosta in un medesimo posto che è norma del Sangha. Nonostante le tradizioni così diverse, spazialmente e temporalmente, si ottiene un quadro notevolmente uniforme per localizzazione geografica della vita del Bulba. Le prime conversioni. Dopo la conversione dei Pankavaggi a Srnth, Gotama convertì Yasa, figlio di un ricco mercante di Brass. Fu il primo non asceta ad entrare nella comunità monastica, presto seguito dai suoi amici, Vimla, Suobu, Quai e Gavapati, figli di altre facoltose famiglie mercantili. Quindi i genitori di Yasa divennero i primi laici a essere riconosciuti come tali e a prendere rifugio nei tre gioielli, ed i li seguirono altre decine di conversioni e numerosi giovani di Brass entrarono nel Sangha. A questo punto, un anno dopo, il Buddha si diresse nuovamente al luogo dove aveva conseguito l'illuminazione. Nella zona dell'attuale Bodhgaya a quel tempo vi predicavano tre fratelli, Uruvela Kassapa, NAD Kassapa e Gay Kassapa, dediti al culto del fuoco, è ipotizzabile fosse un culto vedico, dedicato ad Agni, o locale e post vedico. Dopo averli superati nelle arti magiche che praticavano, li convertì assieme a un migliaio dei loro seguaci. Quindi, andato il Buddha con tutti questi nuovi membri del Sangha, verso la capitale Rajgir, espose sul monte Gaisa e il stra del fuoco. Monaci. Tutto è in fiamme. Esordì, e proseguì elencando gli organi di senso in fiamme, fiamme che si estendono alle funzioni mentali, le sensazioni che provano dovute alle percezioni e individuando la causa nell'avidità, nell'odio e nell'illusione, i tre veleni. Solo con la liberazione da questi veleni i discepoli si sarebbero potuti liberare e sconfiggere la morte. L'arrivo del Buddha nella capitale del regno Magadha provocò un'ondata di conversioni, compresa quella del sovrano Bimbisra, allora a capo del più potente stato dell'India settentrionale. Questi, in segno di devozione, regalò al Buddha il monastero di Beuvana, sito nel bosco di bambù poco oltre la porta settentrionale della capitale Rajgir. In questo periodo si colloca anche la conversione, grazie ad Asahi, Disriputta e Mogvalna, che diverranno i due discepoli principali del Buddha. A Capilavattu e nel Kosala. Dopo aver completato la permanenza a Rajgir con la conversione, nei pressi di Gaia, di Makassapa, destinato a diventare un famoso discepolo, il Buddha si diresse a Capilavattu, la capitale dei Sakya, sua terra natale. Lì, dopo aver chiesto cibo in elemosina casa per casa, fu fatto accedere alla sala del congresso della nobiltà Sakya per tenere un sermone. Quindi il Buddha fece visita a suo padre Suddodhana e a sua moglie Yasodar, convertendoli. Ordinò quindi suo fratellasto Nanda e suo figlio Rula. Le conversioni compresero sia appartenenti alla nobiltà Sakya che membri delle caste più infime, come il caso del barbiere Upli. Fu in questa occasione che divenne norma che l'ordine di rispetto tra i monaci dovesse essere basato esclusivamente sull'anzianità calcolata dal giorno della presa dei voti, tanto che i giovani nobili Sakya chiesero di essere ordinati immediatamente dopo Upli per doverlo omaggiare e sconfiggere così la loro superbia. Tra i convertiti che espressero questa scelta anche Nanda, il cugino del Buddha, e Devdatta. Il monastero Getavana. Lasciata la sua terra natale, la repubblica nobiliare dei Sakya, il Buddha si diresse nel Kosala, il regno che deteneva l'egemonia su Kapilavattu. Il Kosala a quei tempi era retto dal re Prasenadi, sanscrito, Prasenayat, con cui il Buddha ebbe numerosi incontri cordiali. Nella capitale del Kosala, Svat, sanscrito, Hrvast, il facoltoso mercante Sudatta Antapika, precedentemente convertito a Rajgir, comprò da Jita, un principe figlio di Prasenadi, un grande appezzamento di terreno nella periferia meridionale della città, donato al Sangha, divenne uno dei principali luoghi di sosta del Buddha e grande centro di diffusione del Dharma, noto come il monastero Getavana, il parco di Jita. In questo luogo il Buddha visitò il monaco Tigatatisa, seriamente ammalato, lo lavò e se ne prese cura fino alla sua morte. Qui esortò i monaci a prendersi cura reciprocamente, non avendo più famiglia né mezzi, avendo receso i legami con il mondo, avrebbero dovuto aver cura l'uno dell'altro. Chi mi serve serva i malati. Io vi cave maupaiya sojil nanupaiya. In un altro sutra che tratta della stessa vicenda il Buddha esplicita. Non c'è differenza di meriti nel fare donazioni a me e aver cura dei malati, a codire i malati è servire il Buddha. Gli elenchi dei convertiti nel Cosala mostrano come l'origine castale dei monaci e dei laici fosse in prevalenza bramanica e mercantile, come subiti, con minoranze tra la casta guerriera, cui apparteneva lo stesso Buddha, e le classi inferiori. Aragir. Aragir, nella capitale del Magandia, oltre al monastero di Benuvana fuori dalla porta settentrionale concesso dal sovrano Bimbisra, il saga ebbe in dono il monastero di Javakarana, nei pressi del boschetto di Manghi, Ambavana, dono di Javaka Komrabekha, medico personale del sovrano, che desiderava che il Buddha soggiornasse più vicino alla sua dimora. Fu in quella sede che il Buddha espose il Javakasutta, in cui si fa di vieto ai monaci di mangiare carne se hanno conoscenza che l'animale sia stato ucciso solo per essere dato loro in pasto, e parimenti fa di vieto ai laici di uccidere animali con lo scopo di nutrire i monaci. Non lontano da Aragir, a Geisa, soggiornava il monaco Devdatta, che godeva dei favori del figlio del Rebimbisra, Atasattu. In presenza di monaci, laici e del sovrano di Rajgir, Devdatta chiese al Buddha, ormai in età avanzata, di prendere il controllo del Sangha. Tra le riforme che avrebbe voluto introdurre tutte volgevano ad una maggiore austerità, obbligo di dimora nelle foreste, vestirsi solo di abiti trovati nelle discariche, non accettare inviti a pranzo dai laici, a stenersi dalla carne anche se offerta. Il Buddha rifiutò di nominarlo a capo della comunità monastica. Devdatta, intravedendo nella fedeltà di Bimbisra al Buddha l'ostacolo principale nella sua ascesa, convinse il principe Atasattu a perpetrare un colpo di stato. In seguito Bimbisra fu imprigionato e lasciato morire di fame, nonostante questi avesse volontariamente abdicato in favore del figlio. Il picco dell'avvoltoio, Giyakta. Ottenuto l'appoggio del nuovo sovrano, Devdatta tentò di assassinare il Buddha con l'aiuto di alcuni arcieri di Atasattu, che si rifiutarono. Quindi Devdatta stesso provò l'omicidio, prima lanciando un masso dal Giyakta, il picco dell'avvoltoio, le ferite riportate dal Buddha furono a Livi 8 dei trattamenti medici di Giyakta comra becca, quindi ubriacando un elefante reale, Nalgiri, che avrebbe dovuto schiacciare il Buddha, che invece lo affrontò, placandolo. Il Buddha, tornato la sera al monastero Venovana, raccontò la storia con la Amsajitaka in onore della fedeltà di Nanda. Atasattu, pieno di rimorsi, smise di sostenere Devdatta e chiese perdono al Buddha, che lo accolse tra i fedeli laici. Devdatta, avendo perso l'appoggio regale e conscio dell'impossibilità di controllare il Sangha, decise per lo scisma, seguito dai monaci cocailica, Samudhadatta, Katamora Katissa e Kanda Deviputta, oltre a qualche centinaio di discepoli favorevoli a una regola monastica più austera. Il Buddha non vietò maggiore austerità, ma ritenne che dovesse applicarsi solo su base volontaria, non come regola. Il Buddha quindi inviò Sriputta e Mogvalna presso Devdatta. Questi gli lasciarono credere che avessero abbandonato il Buddha, e non appena ebbero l'attenzione di tutti i suoi seguaci li convinsero della necessità di interrompere lo scisma e rientrare nel Sangha. Una volta rimasto solo Devdatta vomitò sangue. Dopo nove mesi Devdatta si mise in cammino per incontrarsi con il Buddha, ma il terreno si aprì e sprofondò nell'inferno Avci. Il Parinirva del Buddha. Dopo aver passato l'ultimo vassa nel monastero di Venuvana il Buddha si recò nuovamente a Rajgir. Lì il sovrano Atashatru, per mezzo del suo ministro Varakra, gli chiese un vaticinio per la sua progettata guerra contro la Repubblica dei Vrighi. Il Buddha rispose che, finché questi fossero stati rispettosi della tradizione assembleare e il popolo contento, non sarebbero stati vinti. Quindi, salito sul picco dell'avvoltoio, il Buddha predicò ai monaci le 49 regole monastiche che avrebbero dovuto seguire per mantenere in vita il Sangha. Salutato dalla nobiltà del Magaddia e dal ministro Varakra, il Buddha e i monaci si diressero quindi verso i territori dei Lik Chavi più a Settentrione, predicando nei vari villaggi in cui facevano sosta. Giunti a Pitti Aligrima il Buddha pensò che mi accadde di attraversare questo fiume il Gange solo una navicella, oggi non conviene che col mezzo medesimo torni a passarlo. Il Buddha è ormai maestro nel trasportare gli uomini all'altra riva, però che insegna a tutti il modo di traversare l'oceano delle esistenze. Statua nel tempio del Mahaparinirvana a cui ingara. Quindi tutti i monaci si ritrovarono sulla sponda settentrionale del Gange, a Koigirma. Le malattie e carestie infuriavano e, polemicamente, fu chiesto al Buddha come mai anche dieci suoi fedeli laici fossero morti. Il Buddha preconizzò che quella sarebbe stata la loro ultima esistenza e di altri 300 predisse solo altre sette rinascite prima di giungere alla perfezione. Tutti i viventi moriranno, come in pari modo tutti i Buddha, dai tempi passati fino al presente sono ormai nel Nirvana, e oggi a me, fatto Buddha, spetta la stessa sorte. Giunto nei pressi di Vail fu invitato a pranzo dalla cortigiana a Marple, assieme a tutti i monaci, rifiutando un analogo invito dei nobili Lik Chavi, che avevano rivolto l'invito solo successivamente. Il Buddha decise di soggiornare nei pressi di Vail ma, per non pesare troppo sulla popolazione locale oppressa dalla carestia, diede ordine ai monaci di disperdersi in tutte le direzioni, mantenendo accanto a sé solo Nanda. Lì il Buddha annunciò Adnanda che entro tre mesi sarebbe entrato nel Parinirva. Diede inoltre ordine Adnanda di ricordare tutti i suoi discorsi, in modo da ripeterli poi qualora dei monaci li avessero dimenticati. Ripreso quindi a vagare nella pianura del Gange il Buddha tenne numerosi discorsi ricapitolando tutti i temi principali della sua dottrina. Giunto a PV fu invitato a pranzo da un certo Kunda, li tenne un discorso sui monaci, alcuni dei quali sono malvagi come le erbacce in un campo e ammonendo a non considerare la veste, ma il cuore retto come segno di eccellenza. Lasciata la casa di Kunda e diretto a cui in gara il Buddha si sentì male e, sedutosi, chiese Adnanda di procurargli dell'acqua. Passò quindi un nobile, poccosa, che donò un tessuto giallo affinché il Buddha potesse coricarvisi. Quindi disse Adnanda che fu il cibo di Kunda a condurlo alla fine, e che l'indomani sarebbe dovuto andare a ritrovarlo per ringraziarlo e che non piangesse per questo, ma che se ne rallegrasse. Giunse allora il monaco Kappina che chiese al Buddha di rimandare la sua estinzione, al che il Buddha rispose che, come le case degli uomini, col lungo andare del tempo, rovinano, ma il suolo dove erano resta, così resta la mente del Buddha, e il suo corpo rovina come una vecchia casa. Nel frattempo giunsero monaci e laici da cui in gara, avvertiti da Nanda che entro la mezzanotte il Buddha sarebbe entrato nella totale estinzione. Chiesero quali fossero le ultime volontà in merito alle spoglie. Il Buddha, dopo aver risposto, chiese ai monaci se vi fossero ancora dei dubbi in merito alla dottrina, dicendo che era la loro ultima occasione per poterli dissipare. I monaci risposero che non vi erano punti oscuri e che tutto era a loro chiaro. Secondo la tradizione, Sid Bartha Gautama morì a cui in gara, in India, a 80 anni, nel 486 anno corrente circondato dai suoi discepoli, tra i quali l'affezionato attendente prediletto Nanda, al quale lasciò le sue ultime disposizioni. Tradizionalmente si riportano le sue ultime parole. Ricordate, o monaci, queste mie parole, tutte le cose composte sono destinate a disintegrarsi. Dedicatevi con diligenza alla vostra propria salvezza. Quindi il Buddha si stese volto a settentrione, reclinato sul fianco destro, e spirò. La cremazione. Lo Stuparamabar, dove fu cremato il Buddha. La descrizione dei riti funerari, Sarapgerie, che accompagnarono la cremazione di Gautama Buddha sono strettamente correlati con la successiva venerazione per le reliquie, Sarra, sanscrito, Ar, e vanno intese come rappresentazione del valore che queste hanno in ambito buddista. Si assiste anche a uno slittamento semantico dal corpo fisico di Gautama alla rappresentazione dello stato di Buddita fornito dalle Sarra. Il clan dei Mola di cui Inghara approntò un funerale degno di un sovrano universale, il corpo fu avvolto in 500 pezze di cotone e immerso in una vasca di ferro, tai ladro, piena d'olio. Quindi, con l'accompagnamento di una folla che portava ghirlande di fiori, ballava e suonava, il corpo attraversò la città. Passarono sette giorni prima che si approntasse la pira funeraria. Questo diede tempo a Makassapa, il più autorevole dei monaci dopo la morte, avvenuta poco prima, Disriputta e Mamogalna, di giungere a cui Inghara e prendere parte ai riti funebri. Nanda, dopo essere stato per tutta la vita l'attendente del Buddha Gautama, si fece carico anche di tutta l'organizzazione delle cerimonie inerenti al suo corpo. Il giorno della cremazione, nell'ultimo saluto, diede la precedenza alle donne Mola di cui Inghara, furono loro le prime a circumambulare Gautama, lanciare fiori e bagnare di pianto i suoi piedi. Quindi, contrariamente alle prescrizioni bramaniche, il corpo fu portato in processione dentro la città, Dananda, il re di Mola, Sacra e Bram. La pira fu accesa da Makassapa, con un simbolismo inverso, dato che usualmente in India i sannyasi non vengono cremati ma rilasciati nei fiumi. È vestito come un principe, quando fu proprio l'abbandono della sua veste principesca che aveva marcato l'origine della ricerca spirituale che lo aveva portato a divenire un Buddha. Una volta estinto il fuoco furono raccolte le Sarra e conservate in una scatola d'oro al centro cui Inghara. La notizia della scomparsa del Buddha e della permanenza delle Sarra attirò una intensa competizione per impossessarsene, oltre ai Mola di cui Inghara le reclamarono anche i Mola di Pivu, il re Atashatru del Magandia, i Bulaka di Calacalpa, i Krauia di Irmagrama, i Bramini di Vyudvupa, i Likciavi di Vail e Ikea di Kapilavastu. Le richieste furono sottolineate dall'invio di eserciti a cui Inghara. Il Bramano Droa fu scelto come arbitro, divise le Sarra in otto parti per gli otto pretendenti, per setenne l'urna, Kumba, con cui aveva eseguito la partizione, le Ceneri della Pira andarono al Bramano Pipaliana, giunto dopo la cremazione. Una volta distribuite le Sarra a ciascuna parte costruì un grande stpa per venerarle. Li rimasero finché il sovrano Asoca non le aprì per risuddividerle e diffonderle in stpa eretti in tutto l'impero Moria. Pensiero filosofico e dottrina religiosa. Magnafying glass Ikan Mgx2.svg lo stesso argomento in dettaglio, La storia della vita del Buddha, nota come la storia di Barlaam Ejassafat, in particolare la parte della profezia alla nascita fino alla fuga dal palazzo, giunse in Europa fin dal Medioevo, attraverso una serie di traduzioni che inserirono numerosi elementi non buddisti e parabole edificanti. La leggenda narra del principe indiano Jassafat, recluso dal padre negli agi del Palazzo Reale per impedire che la predizione della sua conversione al cristianesimo si avveri. Una sua breve fuga all'esterno gli permette la visione di un malato, un lebroso e di un funerale. Sconvolto dalla sofferenza del mondo incontra Barlaam, una sceta che lo converte al cristianesimo e con cui, alla fine di molte traversie e della fuga definitiva dal padre, trascorrerà molti anni di ascesi nel deserto fino alla morte. La filogenesi, non lineare, delle traduzioni comincia con quelle in persiano, arabo e giorgiano nell'ottavo secolo, poi in greco e latino undicesimo secolo, attribuita a Giovanni Damasceno. Quindi fu la volta della traduzione ebraica di Abraham Ibn Cisnai, ebreo di Barcellona. 1240 Da questa nacque una lunga tradizione di versioni spagnole che furono molto diffuse nel XIII secolo. Ma la diffusione in tutta Europa è ben evidente dalla traduzione in islandese già nel 1204. Miniatura bizantina del XIII secolo rappresentante San Jassafat Barlaam e Jassafat vengono inseriti tra i santi cristiani almeno dal XIV secolo, la più antica citazione si trova nel Catalogus Santorum di Pietras de Natalibus, vescovo di Iesolo tra il 1370 e il 1400. La canonizzazione fu ratificata nel martiriologium di Papa Sisto V, 1585-1590, che assegna loro il giorno del 27 novembre. In Europa il primo studioso ad accorgersi dell'origine buddista della storia fu Edward René de la Boulaye e nell'articolo Le Savadanas sul giornal des Debats del 26 luglio 1859. In precedenza, nel 1612, il viaggiatore portoghese Diogo D'Oconto, dopo aver raccolto informazioni nello Sri Lanka, si era convinto, al contrario, dell'origine cristiana del buddismo, proprio a causa della similitudine della vita del Buddha con quella di San Jassafat. In seguito l'ebraista Stain Schneider aveva intuito, senza poterlo provare, l'esistenza di un collegamento inverso. Il nome Jassafat viene da Jassaf, Jassaf è a sua volta corruzione, da un errore greco, per, dell'arabo idasatif, a sua volta da Bodhisatt, con una storpiatura della lettera iniziale B, con la Ypsilon, a causa della somiglianza delle lettere arabe. Bodhisatt viene dal sanscrito Bodhisattva, termine con cui nella letteratura buddista ci si riferisce al Buddha storico prima della sua illuminazione. Barlaam è invece una storpiatura da Bhagavan, Signore, termine con cui nella letteratura buddista ci si riferisce al Buddha quindi il personaggio letterario del Buddha si sdoppia letteralmente in due pur mantenendo l'impianto della storia. Sargamo Borghani. Il Milione. Descrizione di Selam. Edizione francese del XIV secolo. L'unica altra fonte sulla vita del Buddha per gli europei nel Medioevo fu fornita da Marco Polo. Nel capitolo CLV del Milione, dedicato all'isola di Silla, l'odierno Sri Lanka, in cui Polo fece sosta nel suo viaggio marittimo di ritorno dalla Cina, il viaggiatore veneziano descrive nei dettagli la vita di Sargamo Borghani. Il nome viene dalla storpiatura di Chiamuni Bhagavan, ovvero il Buddha. In questo caso la vicenda narrata è molto vicina all'originale storia tradizionale buddista, mentre nel finale è il padre che, dopo la morte di Sargamo Borghani, ne promosse il culto innalzando gli statue d'oro e diffondendo la voce che morì 84 volte, e tuttavia diventava qualche animale, o cavallo o uccello o d'altra bestia. Ma in capo delle 84 volte dicono che morì, e diventò il Dio, e costui hanno gl idolatri per lo migliore il Dio che gli abbiano. E sappiate che questi fu il primaio idolo che fosse fatto, e di costui son discesi tutti gli alle idoli. Marco Polo, evidentemente colpito dalla storia, commentò. Dimorò, tutta la vita sua molto onestamente, che per certo, se gli fosse il stato cristiano battezzato, egli sarebbe il stato gran santo appodio. Gotama Buddha nell'induismo Gotama Buddha, ovvero il fondatore del buddismo, antica religione che si pone in alternativa alla cultura religiosa Ind, viene da questa inteso come Avatra di Viu, questo considerato Dio, la persona suprema, il Bhagavad. Tale lettura corre lungo tre interpretazioni teologiche, da una parte i testi più antichi indicano il Buddha Avatra di Viu manifestatosi per ingannare e quindi condurre a rinascite sfavorevoli i suoi seguaci, qui intesi come traditori dei Veda, una seconda interpretazione, presente in testi più recenti, tale Avatra è inteso in modo positivo ovvero per insegnare la non violenza, Ais, a stenersi dall'uccidere, soprattutto nei confronti degli animali, e la gentilezza d'animo, in una terza interpretazione, che integra la seconda, Viu si manifesta come Buddha per essere adorato dai negatori del suo essere Dio, il Bhagavad, ovvero da coloro che negano la supremazia alla divinità. La vita di Gautama Buddha secondo la storiografia contemporanea. Magnafying Glass Ican Mgx 2.svg lo stesso argomento in dettaglio, Buddhologia. Thomas William Reese Davids, 1843-1922, studioso della figura di Gautama Buddha e fondatore, nel 1881, della Palitext Society. Caroline Augusta Foley Reese Davids, 1857-1942, una delle prime studiose occidentali della figura di Gautama Buddha. L'indagine storico-critica della figura di Gautama Buddha si avviò a partire dalla fine del XIX secolo. Studiosi come Thomas William Reese Davids, 1843-1922, Caroline Augusta Foley Reese Davids, 1857-1942, e Herman Oldenberg, 1854-1920, analizzando il canone buddista scritto in lingua PLI cercarono di eliminarne gli evidenti contenuti mitici per tentare una ricostruzione storica della figura del fondatore del buddismo. Tale approccio è tuttavia oggi ritenuto superato 89 e se anche la maggioranza degli studiosi ritiene l'esistenza storica di Gautama Buddha un fatto acclarato considera estremamente difficile ricostruirne la vita e, persino, stabilire con certezza il periodo dell'esistenza. Scarse sono infatti le testimonianze storiche circa la vita del fondatore del buddismo e controverse sono le stesse date. Resulta pertanto arduo separare leggenda e realtà e collocare storicamente le vicende della vita del buddha, poiché i riscontri a noi pervenuti non sono sempre attendibili. Gran parte delle fonti sono infatti posteriori di almeno 200 anni rispetto agli eventi della vita di Sid Bartha Gautama. In più, le cronache storiche indiane non sono rigorose nel separare eventi reali dal mito e dalla leggenda. Tutte le fonti tradizionali concordano tuttavia sul fatto che Sid Bartha Gautama sia vissuto per 80 anni. Secondo le cronache singalesi riportate nel Dvapasa e nel Mavasa Sid Bartha Gautama sarebbe nato 298 anni prima dell'incoronazione del re indiano Ahsoka e morto, Parinirva, 218 anni prima dello stesso evento. Queste cronache indicano come il 326 anno corrente l'anno della salita al trono da parte di questo re indiano. In base a questa tradizione, diffusa nei paesi buddhisti Theravda, Sri Lanka, Thailandia, Birmania, Cambogia e Laos, Sid Bartha Gautama sarebbe nato nel 624 anno corrente e morto nel 544 a.c. Gli studiosi occidentali e indiani, seguendo fonti greche, spostano la data dell'incoronazione di Ahsoka al 268 anno corrente e quindi ritengono che Sid Bartha Gautama sia nato nel 566 anno corrente e morto nel 486 anno corrente. Studiosi giapponesi e lo studioso tedesco Eins Bekert seguendo fonti indiane riportate nei canoni buddhisti cinese e tibetano che attestano la nascita di Sid Bartha Gautama 180 anni prima della incoronazione di Ahsoka e la sua morte 100 anni prima, le incrociano con le fonti greche e giungono invece a ritenere che l'anno di nascita del fondatore del buddismo sia il 448 anno corrente mentre la morte sia avvenuta nel 368 anno corrente. Altro non si può sostenere e, come ricorda Etienne Lamath, il tentativo di ricostruire o tracciare la vita di Gautama Buddha è una impresa priva di speranza. L'unica cosa che si può affermare con contezza è quindi che il Buddha visse in India in un periodo compreso tra il V e il IV secolo anno corrente comunque proprio in quel particolare periodo a cui Carl Jasper ha dato il nome di periodo assiale della storia mondiale. In questo periodo si concentrano i fatti più straordinari. In Cina vissero Confucio e Loz, sorsero tutte le tendenze della filosofia cinese, meditarono Moz, Zung Z, Li Kou e innumerevoli altri. In India apparvero le Upaniad, visse Buddha e, come in Cina, si esplorarono tutte le possibilità filosofiche fino allo scetticismo e al materialismo, alla sofistica e al nihilismo. In Iran Zarathustra propagò l'eccitante visione del mondo come lotta fra bene e male. In Palestina fecero la loro apparizione i profeti, da Elia a Isaia e Geremia, fino a Deutero e Isaia. La Grecia vide Omero, i filosofi Parmenide, Eraclito e Platone, i poeti tragici, Tucidide e Archimede. Tutto ciò che tali nomi implicano prese forma in pochi secoli quasi contemporaneamente in Cina, in India e nell'Occidente, senza che alcuna di queste regioni sapesse delle altre. La novità di quest'epoca è che in tutti e tre i mondi l'uomo prende coscienza dell'essere nella sua interezza, un Grey Fende, ulteriorità onnicomprensiva, di se stesso e dei suoi limiti. Viene a conoscere la terribilità del mondo e la propria impotenza. Pone domande radicali. Di fronte all'abisso anela alla liberazione e alla redenzione. Comprendendo coscientemente i suoi limiti si propone gli obiettivi più alti. Incontra l'assolutezza nella profondità dell'essere se stesso e nella chiarezza della trascendenza. Ciò si svolse nella riflessione. La coscienza divenne ancora una volta consapevole di se stessa, il pensiero prese il pensiero ad oggetto. punto. Carl Jasper, in Vamorsprunghi, Wendy Zildesgeskikt. Artamis, Zurigo 1949, Piper, Munchen 1949, 1983, Tradit, Origine e Senso della Storia, a cura di Aguadagnin, Comunità, Milano, 1965, pagina 20. In altri termini, nel periodo assiale, sembra che l'umanità abbia fatto un incredibile salto nell'approfondimento della conoscenza di sé si sia operata una trasformazione globale dell'essere umano a cui, sempre secondo Jasper, si può dare il nome di spiritualizzazione. Premesso ciò, della vita di Gotama Buddha possiamo ricostruire solo un quadro piuttosto generico, fu un rinunciante e Asceta, unitamente ad altri rinuncianti indiani ebbe una visione critica del mondo e delle sue illusioni e praticò e predicò delle tecniche meditative, yoga. Predicò anche una vita comunitaria tra rinuncianti disciplinata da alcune precise regole e raccolse intorno a sé altri monaci, ma anche laici, che ne seguivano gli insegnamenti. Fu senza dubbio una personalità carismatica. A questo quadro, gli storici Frank e Reynolds e Charles Allisi aggiungono alcune altre informazioni che, nella loro peculiarità e specificità, ritengono difficilmente inventate dalla successiva tradizione, per questi autori è molto probabile che Gotama Buddha appartenesse alla casta degli Catrilla. Nacque nel clan degli Chia. Fosse sposato ed ebbe un figlio. abbracciò la vita di Asceta itinerante senza il permesso del padre. Andò incontro ad un fallimento quando per la prima volta comunicò la sua esperienza dell'illuminazione. Reschiò di perdere la guida della comunità da lui fondata a causa di un suo cugino che propose delle regole maggiormente ascetiche. Morì in un luogo remoto dopo aver mangiato del cibo avariato. Iconografia Sebbene il buddismo non sia mai stato attraversato da correnti iconoclaste, per i primi secoli fu rigorosamente aniconico, rappresentando il Buddha Gotama solo attraverso simboli, l'impronta del piede, una delle punte del Triratna, la ruota del Dharma, uno Spa, un loto. Ciascun simbolo rappresenta un particolare della biografia di Gotama. A partire da lì secolo, per ragioni ancora non chiarite, si sviluppò, sia in basso rilievi che in statuaria a tutto tondo, la rappresentazione iconica del corpo del Buddha storico, basata per lo più sui 32 segni maggiori di un Buddha così come erano andati codificandosi nella letteratura religiosa. Il clima dell'India non ha permesso la sopravvivenza di pitture buddiste, con la notevole eccezione del ciclo pittorico di Yanta. Con la diffusione del buddismo nell'Asia centrale, nell'estremo oriente e nel sud-est asiatico l'iconografia del Buddha si evolse in accordo con lo sviluppo dell'arte locale, mantenendo forti connotati conservatori e di riconoscibilità. La gestualità delle rappresentazioni, sia nei mudrsia nella postura del corpo, mantiene il significato della rappresentazione legato a specifici momenti della vita e della azione del Buddha, la nascita, l'illuminazione, il primo sermone, il parinirvana, rendendole un linguaggio perfettamente riconoscibile in ambito buddista, al di là delle specifiche tradizioni sorte nel corso del suo sviluppo storico e dottrinario. Buddismo Il buddismo, in sanscrito, Buddha Sassana, o più comunemente buddismo è una delle religioni più antiche e diffuse al mondo. Originato dagli insegnamenti della sceta itinerante indiano Siddhartha Gautama, 6, Vosecanno Corrente, comunemente si riassume nelle dottrine fondate sulle quattro nobili verità, sanscrito, Katibri Raya Sataini. Nel mondo ha tra i 350 e i 550 milioni di fedeli. Con il termine buddismo si indica quell'insieme di tradizioni, sistemi di pensiero, pratiche e tecniche spirituali, individuali e devozionali, nate dalle differenti interpretazioni di queste dottrine, che si sono evolute in modo anche molto eterogeneo e diversificato. Sorto nel vivu secolo anno corrente come disciplina spirituale assunse nei secoli successivi i caratteri di dottrina filosofica e, secondo alcuni autori, di religione ateistica 8, intendendo con quest'ultimo termine non la negazione dell'esistenza degli dei, deva, quanto piuttosto il fatto che la devozione ad essi, fatto comunque considerato positivo, non condurrebbe alla liberazione ultima. Altri considerano i libri sacri buddisti, canone PLI, canone cinese e canone tibetano, testi che non divinizzano Siddhrtta Gotama Buddha Sakyamuni, ma di Buddha o Buddha Eterno, concetti buddisti equivalenti a Dio, tuttavia non è una concezione affine a quella della divinità in senso occidentale, quanto, nel buddismo Meina, il principio della buddhità, raffigurato a volte nelle figure dei Buddha come Vairocana o Amitba, manifestatosi storicamente come Gotama. Il Meina venera anche i Bodhisattva, esseri vicini all'illuminazione. A partire dall'India il buddismo si diffuse nei secoli successivi soprattutto nel sud-est asiatico e in estremo oriente, giungendo, a partire dal XIX secolo, anche in Occidente. Indice. 1 Origini del termine. 2 Storia. 3 I fondamenti del buddismo. 3.1 I fondamenti del buddismo dei Nikhya e del buddismo Theravda. 3.2 I fondamenti del buddismo Meina. 3.3 I fondamenti del buddismo Meina-Varaina. 4 Canoni buddhisti. 5 Correnti del buddismo. 5.1 I in India. 5.2 I il buddismo fuori dall'India. 6 note. 7 Bibliografia. 7.1 Testi storiografici sul buddismo, tutte le scuole e tutti i paesi. 7.2 Testi canonici afferenti al buddismo dei Nikhya o al buddismo Theravda. 7.3 Testi canonici per il buddismo Meina. 7.4 Miscellanea. 8 Voci correlate. 9 Altri progetti. 10 Collegamenti esterni. Origini del termine. La parola buddismo fu introdotta in Europa nel XIX secolo XIII per riferirsi a ciò che è correlabile agli insegnamenti di Siddhartha Gautama in quanto Buddha. In realtà un'unica parola per esprimere questo concetto non esiste in nessuno dei paesi asiatici originari di tale tradizione religiosa. La traduzione dei termini originari letteralmente va intesa come insegnamento del Buddha, sanscrito Buddha Sanna, PLI Buddha Sanna, cinese Pini Info Jawa de Gillespo 2 Kiao 4, giapponese Baki, tibetano Sang Surgia Sky Yai BK, coreano Pulgio, vietnamita PHT Jai Aho. Originariamente l'insegnamento del Buddha si denominava come Dharma Vinaya, PLI Dhamma Vinaya, cinese FL, giapponese Ritsu, tibetano Chas Dal Bia, coreano Pim Nhuul, vietnamita PHT Fap, ma questa denominazione non ha avuto quella diffusione nelle lingue asiatiche diverse dal sanscrito quanto invece la denominazione Buddha Sanna. Altri termini sanscriti con cui viene indicato il buddismo, nella sua accezione di religione esposta dal Buddha Shakyamuni, sono, Buddha Nozana, Ginasana, Tathgatasana, Dharma, Buddha Nusti, Sana, Sto ma anche Buddha Dharma e Buddha Vakana. Storia Magnafying Glass Ican MGX 2.SVG Lo stesso argomento in dettaglio, storia del buddismo Proselytismo buddista al tempo del re Asoka, 260-218 anno corrente, così come descritto dai suoi editti. La storia del buddismo inizia nel vivu secolo anno corrente, con la predicazione di Siddhartha Gautama. Nel lungo periodo della sua esistenza, la religione si è evoluta adattandosi ai vari paesi, epoche e culture che ha attraversato, aggiungendo alla sua originale impronta indiana elementi culturali ellenistici, dell'Asia centrale, dell'Estremo Oriente e del Sud-Est Asiatico, la sua diffusione geografica fu considerevole al punto da aver influenzato in diverse epoche storiche gran parte del continente asiatico. La storia del buddismo, come quella delle maggiori religioni, è anche caratterizzata da numerose correnti di pensiero e di visioni, con la formazione di varie scuole, tra queste, le più importanti esistenti sono la scuola Theravda, le scuole del Meina e le scuole Varayna. I fondamenti del buddismo I fondamenti del buddismo dei Nikhya e del buddismo Theravda Monaco buddista in meditazione nel Watmaatat, Surkotai, Thailandia All'origine e a fondamento del buddismo dei Nikhya e del buddismo Theravda troviamo le quattro nobili verità. Si narra che il buddismo, meditando sotto l'albero della Bodhi, le comprese nel momento del proprio risveglio spirituale. Esse sono riportate in vari discorsi del canone PLI a cominciare dal Dammakakavattana Sutta del Sayu Tanikya, e nel canone cinese nello ZHNJNG, JAP. ZGONA GONKI, collocato nello Anbu, TD 99.2.1 A373B, traduzione in cinese del testo sanscrito Sayukti Jama al cui interno è collocato il Dharma Kakra Pravartanastra. Questo è, sempre secondo la tradizione, il primo discorso del Buddha, tenuto nel parco delle gazelle nei pressi di Sarnath vicino Varanasi, detta anche Banaris, nel 528 anno corrente ai suoi primi cinque discepoli, all'età di 35 anni, dopo che nei pressi del villaggio di Bodhgaya, nell'odierno stato del Biar, aveva raggiunto il risveglio spirituale. Questo discorso è quindi anche detto il discorso di Banaris, fondamentale per il Buddismo, che da esso prende le mosse, tanto da essere considerato l'evento che dà inizio al Dharma, ossia la dottrina buddista. La ricorrenza di questo evento è celebrata nei paesi di tradizione Teravda con la festa di Shapijei. Da altri è invece considerato il punto d'inizio della prima comunità buddista, formata proprio da quei cinque asceti che lo avevano abbandonato anni prima sfiduciati, dopo essere stati a lungo suoi discepoli. In questo discorso si identifica il Buddismo come la via di mezzo, sanscrito Madhyam Pratipad, PLI Mahai Impipad, in cui si riconosce che la retta condotta risiede nella linea mediana di condotta di vita evitando tanto gli eccessi e gli assolutismi, quanto il lassismo e l'individualismo. Nell'esposizione di questo insegnamento il Buddha enuncia le quattro nobili verità, frutto del proprio risveglio spirituale tester aggiunto, che contemplano l'aspetto pratico della condotta di vita e della pratica spirituale buddista nel cosiddetto nobile o tuplice sentiero, che costituisce il secondo cardine dottrinale del buddismo. I punti salienti della visione buddista della realtà percettiva indirizzata dall'insegnamento del Buddha, sono La dottrina della sofferenza o duca, sans, duca, PLI, ossia che tutti gli aggregati, fisici o mentali, sono causa di sofferenza qualora li si voglia trattenere ed essi cessino, oppure si voglia separarsene ed essi permangano. La dottrina dell'impermanenza o anitya, sans, anica, PLI, ossia che tutto quanto è composto di aggregati, fisici o mentali, è soggetto alla nascita ed è quindi soggetto a decadenza ed estinzione con la decadenza ed estinzione degli aggregati che lo sostengono. La dottrina dell'assenza di unio eterno e immutabile, la cosiddetta dottrina dell'antmen, sans, anat, PLI, come conseguenza di una riflessione sui due punti precedenti. Tale visione è integrata nella Dottrina della coproduzione condizionata, sans, pratya samutpidia, PLI, paikasamupdha, ossia del meccanismo di causa ed effetto che lega gli esseri alle illusioni e agli attaccamenti che costituiscono la base della sofferenza esistenziale. Dottrina della vacuità, sans, unit, PLI, sunnasti, che insiste sull'inesistenza di una proprietà intrinseca nei composti e nei processi che formano la realtà e sulla stretta interdipendenza degli stessi. 2 e 27 Preghiera buddista in Nepal Un elemento importante del buddismo, riportato in tutti i canoni, è la conferma dell'esistenza delle divinità come già proclamate dalla letteratura religiosa vedica, i deva, tuttavia, nel buddismo sono sottomessi alla legge del karma e la loro esistenza è condizionata dal sasra. Così nel Mahi Manikhi a 100 secondo trattino 212 dove al brahmano sangarava che gli chiedeva se esistessero i deva, il buddha storico rispose, i deva esistono. È questo un fatto che io ho riconosciuto e su cui tutto il mondo è d'accordo. Sempre nei testi che raccolgono i suoi insegnamenti, testi riconosciuti tra i più antichi in assoluto e conservati sia nel canone PLI che nel canone cinese e che la storiografia contemporanea inquadra nel termine gamma nikya, Il buddha storico consiglia a due brma che, dopo aver dato da mangiare a uomini santi, si debba dedicare questa azione alle divinità, deva, locali che restituiranno l'onore concesso loro assicurando il benessere dell'individuo, di ganikya, 2,88 trattino 89. È evidente, a partire da questi due antichi brani, la certezza da parte del buddha storico che le divinità esistessero e andassero onorate. A differenza, tuttavia, delle altre correnti religiose dell'epoca, il buddha ritiene che le divinità non possano offrire all'uomo la salvezza dal sasra, né un significato ultimo della propria esistenza. Va precisato, peraltro, che non esiste, né mai esistita alcuna scuola buddista al mondo che affermi, o abbia affermato, l'inesistenza delle divinità. Tuttavia la totale mancanza di centralità delle divinità nelle pratiche religiose e nelle dottrine buddiste di tutte le epoche ha fatto considerare, da parte di alcuni studiosi contemporanei, il buddismo come una religione atea. I fondamenti del buddismo Meina Nriuna, II secolo X, considerato il padre del buddismo Meina e Varaina in una stampa cinese. A questo quadro dottrinario, proprio del buddismo Deinikia e del buddismo Theravda, il buddismo Meina aggiunge le dottrine esposte nei Pranpramitstra e nel Sutra del Loto. All'interno di questi insegnamenti la dottrina della vacuità, Sansunit, acquisisce un ruolo assolutamente centrale in quanto rende correlate, nella realtà assoluta, tutte le altre realtà e dottrine. Questa unificazione nella vacuità, ovvero di privazione di sostanzialità inerente, fa dichiarare al patriarca del Meina, Nriuna. Sa Nasa Srasia Nirvt Kichidastiviam n a nir basi a sasr chi ci dà sti via nir basi a ci ay psil un coi coi sa sarasi a c a n a te e ranta raki cheat sus ma ma pb di a te iti il sasra è in nulla differente dal nirva il nirva è in nulla differente dal sasra i confini del nirva sono i confini del sasra tra questi due non c'è alcuna differenza punto riona la madia maka creek xxv 19 tratti 90 per il suo tra del loto inoltre a beneficio di chi cercava di diventare un ascoltatore della voce il budva rispondeva esponendo la legge delle quattro nobili verità così che potesse trascendere nascita vecchiaia malattia e morte e ottenere il nirvana a beneficio di chi cercava di diventare pratica bomba rispondeva la legge della dode cup la catena di causalità a beneficio del bo di satva rispondeva esponendo le 6 pra mit facendo ottenere loro l a nuttar samyaksa body e acquisire la saggezza onnicomprensiva punto questa presentazione delle quattro nobili verità nella parte più antica del sutra del loto indica che secondo le dottrine esposte in questo sutra e attribuite da questo testo allo stesso budva chiamuni tale dottrina non esaurisce l'insegnamento buddista il quale deve invece mirare o la nuttara samyaksa body ovvero all'illuminazione profonda e non limitarsi al nirva generato dalla comprensione delle quattro nobili verità nel suo complesso anche il sutra del loto non insiste sulle dottrine del duca la sofferenza la prima delle quattro nobili verità e della nitia in permanenza dei fenomeni quanto piuttosto su quelle dell'antmen e dell'ognat assenza di sostanzialità inerente a tutti i fenomeni il dharma esposto nei primi quattordici capitoli del sutra del loto corrisponde alla verità dell'apparire dei fenomeni secondo la causazione che segue le dieci condizioni o talità sanscrito tatata descritte nel secondo capitolo del sutra il dharma profondo è quindi nella comprensione della causa dei fenomeni la realizzazione spirituale la body profonda l a nutar samyaksa body consiste nel comprendere questa causa dell'esistere mentre la verità della sofferenza duca come anche la dottrina della nitia implica solo un giudizio nel sutra del loto non viene quindi enfatizzata alla verità della sofferenza contenuta nelle quattro nobili verità ecco perché quando il buddha è sollecitato a insegnare la legge profonda nel secondo capitolo non la esprime con la dottrina delle quattro nobili verità considerata nel sutra come dottrina nana ma la esprime secondo le dieci talità o condizioni sanscrito tat dottrina mayna i fondamenti del buddismo mayna varaina monumento buddista nell'area oriugi la terza grande corrente del buddismo esistente in epoca contemporanea la corrente varaina veicolo del diamante è essa stessa uno sviluppo del buddismo mayna alle dottrine proprie del mayna quali ad esempio la vacuità unit caro la bodicetta il varaina aggiunge allo scopo di poter realizzare in questo corpo e in questa vita l'illuminazione profonda alcuni insegnamenti segreti denominati come tantra e riportati nella propria letteratura religiosa canoni buddisti magnifying glass i can mgx 2.s vg lo stesso argomento in dettaglio canone buddista fra i testi più antichi del buddismo si annoverano i cosiddetti canoni il canone pli o pli tipi taca il canone cinese in cinese ti da zang j ngp e il canone tibetano composto dal can giur e dal ten giur così denominati in base alla lingua degli iscritti il monaco buddista tibetano jesse con o guang du legge dei sutra da una vecchia edizione xilo grafica del can giur il canone pli è proprio del buddismo terap da e si compone di tre piaka o canestri successivamente raccolti in 57 volumi il vinia piaka o canestro della disciplina con le regole di vita dei monaci il sutta piaka o canestro della dottrina con i sermoni del buddha infine la bidama piaka o canestro della fenomenologia in ambito cosmologico psicologico e metafisico che raccoglie gli approfondimenti alla dottrina esposta nel sutta piaka il canone cinese si compone di 2184 testi a cui vanno aggiunti 3136 supplementi tutti raccolti successivamente in una edizione in 85 volumi il canone tibetano si suddivide in due raccolte il can giur composto da 600 testi in 98 volumi riporta discorsi attribuiti al buddha shakia muni e il tan giur raccolta in 224 volumi di 3626 testi tra commentari e insegnamenti parte dei canoni cinese e tibetano si rifanno ad un precedente canone tradotto in sanscrito ibrido sotto l'impero kushan e poi andato in buona parte perduto questi due canoni furono adottati dalla tradizione meina che prevalse sia in cina che in tibet il canone sanscrito riportava tutti i testi delle differenti antiche scuole e dei differenti insegnamenti presenti nell'impero kushan la traduzione di tutte queste opere dalle originali lingue pracritiche a quella sanscrita una sorta di lingua dotta internazionale come lo fu il latino nel medioevo europeo fu voluta dagli stessi imperatori kushan buona parte di questi testi furono successivamente trasferiti in tibet e in cina sia da missionari kushani ma anche persiani sogdiani e cotanesi sia riportati in patria da pellegrini da segnalare che le regole monastiche vinia delle scuole presenti in tibet e in cina derivano da due antichissime scuole indiane v di buddismo dei nicchia rispettivamente dalla mlasarv stilda e dalla dharma guptaka correnti del buddismo diffusione del buddismo nel mondo in india il buddismo nacque in india paese d'origine approssimativamente attorno al sesto secolo anno corrente tuttavia durante più di 1500 anni di storia il buddismo indiano ha sviluppato indirizzi e interpretazioni diverse anche estremamente complesse lo sviluppo di tale complessità si rese necessario con il continuo confronto dottrinale sia all'esterno delle comunità monastiche con le scuole bramaniche e jaina sia all'interno delle stesse per svelare progressivamente gli insegnamenti soprattutto i cosiddetti inesprimibili sanscrito aviktavastni contenuti negli antichi gamma nicchia le scuole nate nel subcontinente indiano nel corso di questi 1500 anni di storia sono suddivisibili in tre gruppi il buddismo dei nicchia un insieme di scuole buddiste sorte nei primi secoli dopo la morte del buddha chiamuni vedi anche concili buddhisti che non riconoscevano la canonicità degli insegnamenti riportati nei pragni tramite stra e nel sutra del loto scritture successivamente denominate come strameina e che compaiono nel canone cinese e nel canone tibetano da una di queste scuole del buddismo dei nicchia la viva yavda origina l'importante scuola cingalese ancora diffusa nel sud est asiatico denominata teravda buddismo meina o del grande veicolo sviluppatosi a partire da alcune comunità buddiste antiche ma con l'accoglimento degli insegnamenti riportati nei pragni tramite stra e del sutra del loto buona parte del buddismo indiano a partire dal secondo secolo fino alla sua scomparsa è rappresentato o influenzato da questa corrente in seno alla quale meritano particolare menzione gli indirizzi madhyamaka città tra e il buddismo varana la quasi totalità delle differenti scuole presenti in estremo oriente appartengono a questo veicolo il buddismo tantrico è anch'esso meina e rappresenta la controparte buddista di un fenomeno più ampio nelle religioni dell'india il tantrismo che ha influenzato anche l'induismo si sviluppò in seno al buddismo meina e ne influenzò profondamente la pratica almeno dal bis secolo in poi anche noto come mantra in a la sua forma più organizzata è più conosciuta come buddismo varaina o veicolo del diamante antiche cronache del buddismo come la storia dell'avvento del dharma in india tibri jargar cosby young redatta nel 1608 dallo storico tibetano 30 kunga ningpo attestano che almeno dall'x secolo i centri universitari buddisti in india dispensavano soprattutto insegnamenti tantrici pressoché tutte le scuole tibetane ma anche diverse scuole estremo orientali come la giapponese shing on appartengono a questa tradizione il buddismo fuori dall'india magnifying glass i can mgx 2.s vg lo stesso argomento in dettaglio buddismo nel mondo tra le tradizioni che fuori dall'india hanno avuto una lunga storia e un'evoluzione in parte indipendente ricordiamo un moderno tempio buddista a kibau shangai cina il buddismo teravda o degli anziani sri lanka myanmar thailandia cambogia e laos il buddismo cinese che è storicamente all'origine del buddismo coreano del buddismo giapponese e di una parte del buddismo vietnamita dal buddismo giapponese proviene la scuola buddista zen che unitamente al nuovo movimento religioso anch'esso di origine giapponese soka gattai risulta tra le scuole buddiste più diffuse in occidente il buddismo tibetano praticato in tibet e in mongolia e in epoche diverse in cina la dac butan parti del nepal presso i tatari e i calmucchi in europa nello yunnan nord orientale e un tempo come buddismo varaina in asia centrale cashmere java birmania e bengala il buddismo in occidente presente negli stati uniti in europa sono organizzati e rappresentati dall'unione buddisti europea e anche in canada in australia il termine sanscrito nana anche pl cinese xiu singh giapponese shg coreano socio lungo so sng vietnamita tiuta tibetano te gp a chung pia significa piccolo veicolo o veicolo stretto 1 indice 1 origini 1.1 suddivisione 1.1 punto uno sravata in a 1.1 punto due pratica buddha in a 2 controversia 3 il termine in in a in ambito storiografico 3.1 dibattito 3.1 punto 1 definizioni alternative 4 albero delle scuole originali 4.1 le prime scuole 4.1 punto 1 le 27 4.2 influenze sulle scuole dell'asia orientale 5 note 6 bibliografia 7 voci correlate 8 collegamenti esterni origini naina fu un termine proprio del buddismo mayna 2 per indicare quei buddisti insieme alle loro dottrine e scritture che non riconoscevano come canonici gli insegnamenti contenuti nei prani tramite stra e nel sutra del loto queste scritture meglio conosciute come sutra mayna sono oggi accolte nei canoni buddisti cinese e tibetano ma non nel canone pli quest'ultimo canone di riferimento della scuola buddista teravda suddivisione secondo il buddismo indocinese la scuola naina indica due veicoli sravacana urbacana sanscrito sbacana pali nian toskite gp a tibetano sheng veng sheng cinese smonje giapponese disciplina che prevede l'adozione degli otto livelli di liberazione individuale o pratimo ca generando la motivazione per il mantenimento puro e intatto lo sforzo l'enfasi è sulla vacuità dei cinque aggregati mantenendo tuttavia la visione di una esistenza reale dei fenomeni sul piano sottile i mezzi abili per la meditazione è la samatha la calma mentale e la visione profonda ovipayan durante la meditazione l'oggetto sono l'analisi delle quattro nobili verità nei loro sedici aspetti il frutto della disciplina è il conseguimento del dimorare nei quattro stadi di liberazione degli raya entrato nella corrente colui che rimane una volta sola senza ritorno e lo stato finale di arat pratica buddhaina monaci in preghiera basata sulla tradizione sarvasti vadin la disciplina è simile a quella dell'or vacaina i voti sono gli stessi la pratica consiste l'assenza di un sé individuale oltre alla concezione dell'assenza di un'esistenza intrinseca degli oggetti colti dalla mente la meditazione è identica alla tradizione erbacaina ma non è legata alle istruzioni di un maestro il frutto è lo stato di buddha da sé simile al rinoceronte unicorno capacità sviluppate simile al pappagallo capacità medie socievole capacità meno sviluppate controversia il termine piccolo veicolo contrapposto al grande veicolo rappresentato dal meina era indirizzato nei confronti di quei buddisti che non riconoscendo gli insegnamenti del meina erano divenuti gli evidenti bersagli della loro ingiuria tre questi ultimi arrivarono addirittura in una loro importante opera il meina ma pari nirvastra a invocare anche la pena di morte per chiunque diffamasse gli insegnamenti del meina 45 monaci buddisti va notato tuttavia che in tutte le lingue proprie dei canoni meina in cui questo termine è stato tradotto esso è stato reso non come veicolo inferiore che pure è il significato etimologico del termine sia in sanscrito che in pl i6 ma come piccolo veicolo infatti il carattere cinese e giapponese come quello coreano e i termini tibetani tegi chung e vietnamita t1 indicano il termine inferiore ma il termine piccolo o ristretto il termine in ina in ambito storiografico per lungo tempo il termine in ina ha indicato nella classificazione storiografica e perdendo qualsivoglia significato spregiativo 7 il buddismo non meina successivamente tale termine è stato sostituito con altre indicazioni come buddismo dei nicchia in quanto il termine buddismo in ina risultava offensivo per alcuni buddisti terav da 8 dibattito buddha delle scuole originali si differenzia dall iconografia mariana per le due pieghe sotto il mento l'utilizzo in ambito storiografico del termine naina è stato ed è fonte tuttavia di dibattito tra gli studiosi così richard h robinson e miliard l johnson in un testo rivisto dal monaco terav da danissaro bk9 sostengono che i terav da non amano essere chiamati naina ma non c'è altro termine corrente per designare l'intero gruppo di scuole che sorsero tra i lì e il quarto secolo dopo il pari nirva e che continuano dopo la nascita del meina 10 definizioni alternative la definizione di buddismo del nicchia ad esempio si può applicare correttamente alle scuole precedenti la nascita del meina ma non a quelle che seguirono poiché il meina formava un sottogruppo all'interno di ciascuno di loro 11 così anche philip cornu non è tuttavia possibile eliminare questo termine naina che ha una sua ragione d'essere storica e dottrinale in nome di qualche ecumenismo in effetti lo naina è caratterizzato dal rifiuto di accettare i sutra maina come autentica parola del buddha e dalla confutazione della teoria dei tre corpi di un buddha sans trikai a questo punto di vista è attualmente condiviso dal teravda il che lo affiglia allo naina e lo mantiene nettamente distinto dal meina ciò detto il teravda si è sempre opposto come il meina alle teorie panrealiste dei sarvstivda tipiche invece dell'onaina antico e ha assorbito dal meina la teoria del trasferimento dei meriti estranea online originario 12 occorre poi precisare che l'attuale scuola teravda non può essere considerata a pieno titolo una scuola del buddismo dei nicchia online avendo essa stessa subito nel corso dei secoli degli sviluppi dottrinali che l'hanno portata ad accogliere alcuni insegnamenti maina anche se ha sempre rifiutato la canonicità delle relative scritture buddismo maina con il termine sanscrito composto maina devangar cinese s da kenpi giapponese dai tibetano tgp a tempo vietnamita ita coreano taizungo de seung grande veicolo si intende un insieme di insegnamenti e di scuole buddiste che rifacendosi tra gli altri ai prani pramit stra e al sutra del loto proclamano la superiorità spirituale della via del bodhisattva rispetto a quella della rat quest'ultima proclamata nel buddismo dei nicchia il termine maina si compone dei termini sanscriti ma con il significato di grande e in a con il significato di veicolo quindi grande veicolo da intendersi come ciò che conduce gli esseri senzienti verso la liberazione spirituale attualmente tutte le scuole buddiste esistenti sono di derivazione maina fatta salva la scuola teravda la quale non ha mai accolto la canonicità degli insegnamenti riportati nei strameina indice 1 origine del termine 2 il dibattito storiografico sulle origini del meina 3 strameina 3.1 il ciclo dei brani pramit stra 3.2 il sutra del loto saggi armapur castra 3.3 l avattasa castra il sutra della ghirlanda fiorita 3.4 il raga masam distra 3.5 il mashani ptastra 3.6 il ciclo dei strassucvat la letteratura della terra pura 3.7 il vi malacrti nirde astra 3.8 il meina ma pari nirvastra 3.9 il sa di nirmo canastra 3.10 il la che va trastra 3.11 il tatgata garbastra 3.12 il kiti garbastra 4 le dottrine meina 4.1 il bodhi satva la prajna la nyat e la tat 4.2 l e cana il buddha eterno e il trichia 4.3 il madhyamaka e la triplice verità 4.4 il città mtra e l la yavinina 4.5 la natura di buddha e il tatgata garba 5 note 6 bibliografia 7 voci correlate 8 altri progetti 9 collegamenti esterni origine del termine il termine meina grande veicolo è comunque piuttosto tardo probabilmente successivo alla stesura dei pran pramit stra e alle prime stesure del sutra del loto forse persino successivo alla nascita della scuola madhyamaka fondata da nriuna nel secondo secolo dc le sue origini non sono certe la prima menzione di questo termine sembrerebbe apparire in un'edizione del sutra del loto ma il filologo seishi karashi ma uno ritiene che il termine meina li utilizzato sia un errata resa in sanscrito del termine gn dhr ma in a sua volta resa del sanscrito ma in a grande conoscenza quando il termine in lingua gn dhr fu reso in sanscrito per errore e forse perché condizionati dalla dottrina degli in a veicoli riportata nella parabola della casa in fiamme inserita nel terzo capitolo del sutra del loto fu reso come meina tuttavia l'origine di questo termine resta controversa ed esso non compare nelle iscrizioni indiane prima del vuvi secolo di punto c2 è probabile invece che gruppi di monaci buddisti che avevano accolto la canonicità degli insegnamenti dei prani pramit stra e che convivevano nei monasteri insieme ad altri monaci che ne rifiutavano invece la canonicità abbiano incominciato dopo il secondo secolo di punto c3 a denominarsi come seguaci del meina grande veicolo indicando gli altri come seguaci dell'or vacana veicolo degli ascoltatori della voce ovvero di coloro che fondavano la propria dottrina sulla comprensione delle quattro nobili verità e successivamente naina veicolo inferiore il dibattito storiografico sulle origini del meina gli storici del buddismo hanno elaborato diverse ipotesi sulla nascita degli insegnamenti meina richard h robinson e williard l jansans ritengono che i loro primi testi di riferimento segnatamente la asha srik prajn pramit sutra della perfezione della saggezza in 8.000 stanze risale alli secolo anno corrente siano frutto di una reazione di alcuni monaci esegeti che rifiutavano l'impostazione degli abidharma delle scuole del buddismo dei nikya prodotti nello stesso periodo 4 questo rifiuto era motivato dal fatto che a detta di questi primi monaci meina gli abidharma tradivano l'insegnamento del buddha dimenticando negli aspetti essenziali come rileva paul williams 5 i primi prajn pramit stra consistono essenzialmente in esortazioni agli altri monaci a non dimenticare alcune dottrine buddiste come la vacuità già evidenziate negli gamma nikya e ritenute in questi stra a fondamento dello stesso dharma buddista è opinione di paul williams che in questo richiama anche ins beckert sei che nonostante le differenze dottrinali con gli esponenti buddhisti non meina la nascita del meina non sia comunque in alcun modo attribuibile ad uno scisma sagabeda all'interno delle scuole buddiste indiane uno scisma non ha niente a che vedere con divergenze dottrinali ma è il risultato di divergenze riguardanti la disciplina monastica quindi per questi autori il buddismo è un ortoprassi più che un ortodossia ciò che importa è l'armonia del comportamento non l'armonia delle dottrine paul williams op cit pagina 97 a controprova di queste tesi williams ricorda anche l'evidenza che non esiste un codice disciplinare viniameina oltre al fatto che i pellegrini buddhisti cinesi recatisi in india 7 raccontassero nelle loro cronache di viaggio giunte fino a noi di come monaci meina condividessero con monaci non meina e in tutta tranquillità gli stessi monasteri condividendo gli stessi monasteri lo stesso codice monastico e lo stesso comportamento monastico i monaci meina si differenziavano dai monaci non meina unicamente per una diversa visione del fine ultimo del buddismo 8 sempre williams in tal senso richiama l'opera di attisa un dotto missionario indiano in tibet dell'undicesimo secolo il bodhipate pradpa in questa opera attisa suddivide i praticanti buddhisti in tre classi in base alle loro motivazioni religiose nella prima sono collocati coloro che cercano di acquisire meriti per migliorare le loro esistenze presenti o future nella seconda coloro che cercano di uscire dalla prigione del sasra guadagnando il nirva conseguendo lo stato di arat nella terza si collocherebbero invece solo coloro che hanno come obiettivo religioso la liberazione della sofferenza per tutti gli esseri senzienti e che quindi mirano ad un nirva superiore rispetto a quello degli arat considerato inferiore come la loro via spirituale naina il nirva di questi detti i bodhisattva è indicato come non dimorante aprati ita nirva ovvero oltre la dualità tra sasra e nirva e che non abbandona gli altri esseri senzienti nella sofferenza il punto determinante che rende seguaci del meina non è quindi l'abito le regole monastiche o una filosofia è la motivazione l'intenzione paul williams op cit pagina 99 in questo senso il termine meina è usato semplicemente a scopi pratici è un termine gruppo che raccoglie una gamma di pratiche e di insegnamenti non necessariamente identici fra loro e forse neppure compatibili il meina non costituisce una scuola di buddismo gli manca l'unità necessaria paul williams op cit pagina 101 atteso che inizialmente il meina sembra condividere gli stessi luoghi di pratica del buddismo non meina occorre chiarire quando queste due correnti buddiste si separarono dopo un'accurata analisi dei reperti archeologici disponibili e gregory chopin 9 conclude siamo in grado di ritenere che ciò che oggi chiamiamo meina non iniziò a emergere come gruppo separato e indipendente sino al quarto secolo gregory chopin op cit pagina 15 quindi fatto salvo un'iscrizione epigrafica scoperta nel 1977 che fa riferimento al buddha meina amit banon che di un'iscrizione che menziona l'esistenza di tre veicoli in a rinvenuta a shar sadda e risalente al 55 di punto c 10 non ci sono prove di un'istituzione meina separata dalla restante comunità prima del quarto secolo nonostante sia evidente per gli studiosi che la letteratura scritta che va sotto l'alveo dottrinale meina fosse già presente in india da diversi secoli paul williams ritiene improbabile una presenza della letteratura meina prima della stesura per iscritto della letteratura buddista riguardante gli gamanichia ovvero prima degli secolo a punto c 11 contro questa ipotesi si pone tilman vetar 12 per il quale vi sarebbero prove evidenti di una trasmissione orale del più antico materiale meina se quindi c'è generale consenso tra gli studiosi nel ritenere che le prime opere scritte contenenti dottrine meini ste compaiano nei secoli a cavallo della nostra era e che fatto salvo casi sporadici non siano presenti rilevanze archeologiche che testimonino una presenza istituzionalizzata del meina se non a partire dal quarto secolo resta da comprendere l'origine del movimento mainista che si diffuse lentamente nei monasteri buddisti akira irakawa 13 ritiene che tale movimento sia di origine prevalentemente laicale e legato al culto degli spa chopin è di tutt'altro avviso notando che le iscrizioni archeologiche sono quasi tutte monastiche concludendo che il meina era un movimento dominato dai monaci gregory chopin to problems in the history of indian buddhism the layman barra manc distinction and the duck rings of the transference of merit in studia in surindologie new and iranistica 1985 x pagina 26 anche polar a san 14 e sasaki shizuka 15 ritengono che il movimento mainista sia di stretta origine monastica paul williams ricorda come i recenti lavori di polar a san sui frammenti della letteratura meina nonché i suoi antichi straconservati nel canone cinese e solo recentemente studiati nonché le conclusioni degli studi archeologici effettuati da gregory chopin possano far concludere che il nucleo centrale del meina sia certamente monastico e che il punto centrale del meina primitivo corrisponda all'aspirazione della perfetta buddhita ovvero al voto del bodhisattva da contrapporre a coloro che seguivano un sentiero inferiore mirando alla liberazione della sola propria sofferenza invece di mirare a quella di tutti gli esseri senzienti sedici questi monaci meina corrisponderebbero ad ascetti della foresta tesi a tornare allo spirito buddhista primitivo una certa spinta ai primi sviluppi del meina venne dai monaci dimoranti nella foresta lungi dall'essere il prodotto di un movimento urbano laico e devozionale molti strameina rivelano un radicale tentativo ascetico di ritornare o l'ispirazione originaria del buddismo la ricerca della buddhita o della conoscenza risvegliata polarasan.searching for the origins of meina what are we looking for in eastern buddhist 1995-16 o 1-65 il fatto che i primi meinisti fossero dei monaci ascetti delle foreste spiegherebbe secondo arasan la scarsità di testimonianze archeologiche nei loro confronti la tesi di un meina fondato da monaci conservatori e ascetti delle foreste sarebbe dimostrata secondo Gregory Chopin 17 anche dall'analisi di un strameina molto antico il metriama si anda rugito del leone di mezzreia risalente all'i secolo dc dove viene raccomandata l'ascesi monastica nelle foreste la svalutazione della vita laicale e la denigrazione dell'adorazione degli spa anche l'origine geografica del movimento mainista è stata a lungo dibattuta tra gli studiosi così luiz o gomez 18 discordanti sono le opinioni degli studiosi occidentali riguardo all'epoca e alla collocazione geografica delle origini del meina alcuni propendono per un origine antica intorno agli inizi dell'era volgare tra le comunità dei maschic della regione sudorientale dell'andra altri propongono un'origine nord occidentale tra i sarves team team tra il secondo e il terzo secolo dc ma forse è più verosimile per la formazione del meina pensare a un processo graduale e complesso sviluppatosi in varie regioni dell'india mario piantelli 19 evidenzia come vi sono due distinti focolai di cui abbiamo notizia le scuole degli andaka fiorite attorno ad amarvati presso una delle quali i privai la sembra fosse conservato un testo dei prani tra mistra ancora impracrito e l'ambiente ricco di fermenti dei sarves team team dell'india di nord ovest importanti caro vanieri congiungevano queste regioni e una continua migrazione di bq e di idee può aver avuto luogo nei due sensi non è un caso che la presenza di una comunità del meina sia segnalata un po dappertutto lungo tali itinera capisa l'attuale cabul da kaila yaladara l'attuale laure canchi cubia matur istra meina la raccolta del canone tibetano presso il monastero di rimo che in tibet il corpus dottrinale meina è oggi raccolto nel canone cinese da zhang jng e nel canone tibetano nel can giur e nel tan giur così denominati in base alle lingue con cui questa letteratura viene riportata conserviamo comunque diverse opere meina integrali anche in sanscrito ibrido e in cotanese nonché numerosi frammenti in altre lingue spesso rinvenuti lungo le oasi della via della seta secondo la tradizione meina molti di questi stra furono predicati dallo stesso buddha chiamuni luiso gomez 20 evidenzia tuttavia come siano le stesse tradizioni meina a smentire questo dato storico quando sostengono che questi stra furono trasmessi dal buddha solo a dei bodhisattva ea degli esseri celesti che li nascosero per alcuni secoli nelle profondità della terra o degli oceani per farli riemerge nei primi secoli della nostra era la tradizione meina sarebbe comunque originata dalla messa per iscritto della sua prima letteratura i secolo anno corrente e quindi dalla sua diffusione lungo i monasteri buddhisti indiani secondo tilman vetar 21 vi sarebbero tuttavia prove evidenti di una precedente trasmissione orale del più antico materiale meina la più antica letteratura meina ad oggi conservata appartiene al ciclo dei pran pra mitstra successivamente tale letteratura si espande che si diffonde raggiungendo oltre le mille opere che si propagano lungo l'asia centrale e l'estremo oriente giungendo a partire dallo scorso secolo in occidente il ciclo dei pran pra mitstra alcuni versi della jazrik pran pra mit sutra della perfezione della conoscenza in 8000 versi riportato su tre foglie di palma undicesimo secolo conservati presso il brooklyn museum di new york una copia del sutra del loto giapponese attribuita al principe giapponese shi toku 573 621 copia della versione cinese della vata sa castra risalente alla dinastia sia occidentale manoscritto della che va trastra in caratteri cinesi rinvenuto nelle grotte di mo gao nei pressi di dunwang manoscritto del main amma pari nirva stra risalente al sesto secolo dc rinvenuto a dunwang mario piantelli 22 riporta l'opinione di numerosi studiosi per cui è le rai a pra mitra naguasani kayak strofe del cumulo di pregi che sono le gemme della nobile perfezione della conoscenza giunta a noi in sanscrito ibrido raccolta nel canone tibetano e risalente ali secolo anno corrente sarebbe il testo più antico di questa letteratura ad oggi disponibile da questo primo testo originerebbe il successivo a shazrik pran pra mit sutra della perfezione della conoscenza in 8.000 versi giunto fino a noi in alcune versioni sanscrite e cinesi in cinese la prima traduzione di questo stra è in dieci fascicoli e risale al 172 dc per opera di loka che ma con il titolo da hoxing bring conservato nel canone cinese alti di 179 23 di poco successivo il pan caviati shazrik pran pra mitra sutra perfezione della saggezza in 25.000 versi tradotto nella lingua cinese nel 286 da dharma raka con il titolo gong zambri blu m e jeng e conservato al td 222 a seguire gli altri pran pra mitra tra i quali ricordiamo il atas a shazrik pran pra mitra sutra della perfezione della saggezza in 100.000 stanze l a da shazrik pran pra mitra sutra della perfezione della saggezza in 18.000 stanze il da shazrik pran pra mitra sutra della perfezione della saggezza in 10.000 stanze il pran pra mitra la guasa kayak sutra condensato della perfezione della saggezza il sap casa tica pran pra mitra sutra della perfezione di saggezza in 700 righe il pan casa tica pran pra mitra sutra della perfezione di saggezza in 500 righe il prana paramita a rasa di ca sutra sutra della perfezione di saggezza in 50 righe il pran pra mitra iata pancati che sutra della perfezione di saggezza in 150 metodi il panca via tica pran pra mitra 25 porte della perfezione della saggezza lo svalcara pran pra mitra la perfezione della saggezza in poche parole le cac sa rimata nama sarva tat gata pran pra mitra la perfezione della saggezza in una lettera madre dei tatta gata il caosica pran pra mitra la perfezione della saggezza per caosica il suvi cantavi crmi pari pc cipran pra mitra le domande di suvri cantavi cramin il bara che dica pran pra mitra il sutra del diamante che recide il pran pra mitra di astra il sutra del cuore della perfezione di saggezza l'autore o gli autori dei primi pran pra mitra sono a detta di paul williams 24 di dharmabaka predicatori del dharma piuttosto che degli esegeti essi ripetono costantemente in questa letteratura religiosa tre precisi messaggi la perfezione pra mit più elevata è la pragn saggezza o conoscenza non mondana il contenuto della praina e la vacuità niat il contesto realizzativo di tutto ciò è il sentiero del bodhisattva bodhisattvaina ovvero quello intrapreso dal praticante buddista che non mira alla salvezza personale raggiungendo lo stato di arat bensì alla salvezza di tutti gli esseri senzienti e quindi alla stessa buddhita il sutra del loto sagge arma per castra composto nella sua forma definitiva tra il secolo e il secondo dici il sutra del loto contiene alcune parti che si possono forse far risalire a poco prima dell'inizio della nostra era tradotto in più lingue questo sutra è stato diffuso lungo l'asia centrale e l'estremo oriente divenendo in molti luoghi il sutra buddista di riferimento per quelle comunità religiose esso si compone di un insieme di racconti fantastici o sovrannaturali aventi lo scopo di rivelare al suo lettore una diversa interpretazione del mondo 25 in questo sutra il buddha chiamuni presenta il buddha kaina il veicolo unico del buddha in cui verrebbero riassunti tutte le altre vie buddiste compresa quella dell'orba kaina o naina il dharma profondo è espresso dal buddha non con l'esposizione della dottrina delle quattro nobili verità kativri raya sata ini ma con quella della tatto vero della realtà per come essa è 26 in questo sutra tutti i buddha dei diversi mondi e universi vengono ad omaggiare con i loro bodhisattva il buddha chiamuni il buddha della terra di sa la nostra terra come ad indicare la centralità della vita quotidiana per il praticante buddista che non dovrebbe rivolgersi ad altri buddha cosmici infine il buddha chiamuni afferma di essere il buddha eterno ovvero di non essere mai entrato nel pari nirva estinzione definitiva e di aver conseguito la body da tempo immemorabile in questo il sutra vuole indicare che il buddha stesso è incarnato nel dharma così come il dharma si incarna nel buddha e nelle pratiche bodhisattviche l avatasakastra il sutra della ghirlanda fiorita l avatasakastra il suo titolo completo e buddha vatasakamavaipuli astra è una collezione di sutra che sono stati raccolti e collegati tra loro sotto questo titolo intorno al quarto v secolo dc la dottrina qui esposta soprattutto nel gavi astra 27 che ne rappresenta l'ultimo capitolo è la descrizione del mondo visto dai buddha e dai bodhisattva avanzati raya bodhisattva un mondo quindi fondato sulla visione della realtà percepita da un profondo stato meditativo il mondo dei buddha viene indicato con il termine dharma di tu regno della realtà assoluta esso si sovrappone a quello umano indicato come l'okaditu regno mondano nel dharma di tu la realtà esprime la sua vacuità nianat e la totale compenetrazione tra tutti i fenomeni che lo compongono i buddha agiscono nell'okaditu affinché gli essere li relegati possano percepire il dharma di tu e quindi raggiungere la body un altro capitolo importante della vata sa castra è il dammi castra su tra delle dieci terre il principale strameina che enuncia la dottrina delle mie mediante le quali il bodhisattva può procedere per realizzare il pieno risveglio indicando nella bodhicitta mente del risveglio ovvero l'aspirazione ad ottenere il risveglio il primo passo per entrarvi il ragamasam distra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il mashani ptastra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il ciclo dei strassucvat la letteratura della terra pura sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il vi malacriti nirde astra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il main amma pari nirvastra il main amma pari nirvastra è la rivisitazione maina degli ultimi giorni di vita del buddha chiamuni con i relativi ultimi insegnamenti se gli eventi riportati coincidono in parte con il ma pari nirvastra contenuto nello ambio con il ma pari nirvastra del canone pli questi di origine ma gli insegnamenti riportati sono totalmente differenti insistendo il testo main a su dottrine quali ad esempio il tatgata garba la dottrina contenuta nella prima parte del stra consiste nel considerare il pari nirva del buddha chiamuni come una morte apparente e in realtà mai avvenuta il corpo del buddha qui indicato come d'arma ichia o abedavarachia sarebbe in realtà adamantino e indistruttibile e la sua vita sarebbe incalcolabile quello del buddha è quindi un mani rva differente dal nirva degli arat i quali non hanno la consapevolezza del buddha dito ma solo l'assenza delle afflizioni chiesa la seconda parte contiene un insieme di dottrine che vanno da una lettura sempre docetista della vita terrena del buddha e delle sue precedenti attività bodhisattviche a delle interpretazioni delle regole monastiche vigna alla dottrina del mondo a quella esoterica del tatgata garba inoltre in questo stra buddista il buddha il tatgata è visto possedere le guapramit la perfezione delle qualità beatitudine permanenza purezza e se ovvero le quattro qualità opposte che affliggono gli esseri senzienti vedi vi paresa non solo le guapramit sono potenzialmente in tutti gli esseri senzienti in quanto la loro autentica natura è il tatgata garba dal che a differenza di altre dottrine buddhiste la dottrina dello antmen viene indicata come savtisatya ovvero come verità convenzionale in quanto lo chiamuni avrebbe inteso rigettare solo il sé condizionato per liberare il vero sé matman cinese da due giapponese daigo nel nirva per manifestare il buddha di tu 28 il sa di nirmo canastra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il la che va trastra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il tatgata garbastra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla il kiti garbastra sezione vuota questa sezione sull'argomento religione è ancora vuota aiutaci a scriverla le dottrine meina diffusione del buddismo in asia dal punto di vista dottrinale il buddismo meina venne delineato nelle scuole madhiamaka e città mtra che fiorirono nell'india settentrionale soprattutto presso l'università buddista dinland questi insegnamenti contengo tra loro importanti differenziazioni conservando tuttavia in comune l'importanza della figura del bodhisattva ovvero del praticante buddista laico o monaco che potendo raggiungere la meta del nirva vi rinuncia per aiutare tutti gli esseri senzienti ad entrarvi prima di lui e la centralità dell'insegnamento della vacuità sanscrito unit peraltro già presente negli antichi gamma nicchia va precisato che alcuni di questi insegnamenti che solo successivamente acquisirono il nome meina almeno dal punto di vista scritturale sono databili nello stesso periodo di quelli riferiti al buddismo dei nicchia ovvero intorno l'inizio della nostra era questo fatto daterebbe l'avvio dottrinale del meina e quindi del meina medesimo intorno a quel periodo gli insegnamenti meina si sono diffusi durante l'impero kushan e li hanno progressivamente integrato e quindi sostituito le antiche scuole dette del buddismo dei nicchia giungendo fino in cina e in tibet per poi diffondersi in tutta l'asia centrale e orientale secondo icilio vecchiotti 29 il progressivo sviluppo dottrinale del meina è causa di una graduale migrazione del buddismo stesso verso dottrine idealistiche la pluralità delle dottrine e la pluralità dei buddha si ambientano proprio in questa dinamica costituendo l'espressione di una pluralità di forme che si avviano ad essere in modo sempre più esplicito forme della coscienza cosa che le viene a togliere da qualsiasi problema di tipo sostanzialistico da questo atteggiamento esplicito implicito nasce la drammatica problematicità distri del grande veicolo non c'è alcun dubbio che nel progresso dei tempi si venisse a determinare tutta una serie di discrepanze dottrinali nel senso che le nuove dottrine in uno sviluppo che non sempre fu lineare venivano a contenere apoftegmi che non sarebbero potuti appartenere al buddismo primitivo se si guarda agli estremi della linea derivata il buddismo delle origini non è idealistico o almeno tale non si può definire mentre tale senza dubbio è il punto d'arrivo del buddismo stesso punto buddismo varaina l'espressione buddismo varaina è traducibile in italiano come buddismo del veicolo adamantino o buddismo del veicolo del diamante il termine varaina è reso in tibetano per d'orgete gp a dorge le signore delle pietre cinese gn gn g shen che coreano jean gang siung giapponese con g vietnamita kim cn gita nelle lingue estremo orientali è più comunemente indicato con un termine che ne sottolinea gli insegnamenti segreti ovvero come buddismo esoterico quindi reso in cinese m in zung coreano mil jong giapponese miss in giappone è tuttavia preferito mickey vietnamita mt tong altro modo di indicare questo tipo di buddismo è il termine mantra in veicolo dei mantra segreti tibs gags che i guai ai tgp a cnm in zonk ang giapponese uj o anche tantra in a veicolo dei tantra con il suo recente corrispettivo di buddismo tantrico per buddismo varaina si intende quindi quell'insieme di scuole dottrine e lignaggi propri del buddismo maina che accolgono ulteriori insegnamenti e mezzi abili sanscrito upia che a detta di questo tipo di buddismo consentirebbero un rapido ingresso nella conoscenza o saggezza ultima sanscrito prajna e raggiungere l'illuminazione anche in questa stessa vita il termine sanscrito vajra let diamante o folgore richiamato nel nome di questo buddismo indica l'infrangibilità l'immutabilità e l'autenticità della verità ultima corrisponde anche alla vacuità e quindi alla vera essenza di tutti gli esseri e dell'intera realtà la trasparenza del diamante indica anche che la mente illuminata è chiara limpida e vuota trasparente la tradizione indiana e tibetana di questo buddismo lo indica come terzo veicolo jana ovvero ciò che conduce verso l'illuminazione dopo l naina e il meina considerandolo come sviluppo del meina il buddismo varaina è oggi presente in bhutan mongolia giappone india e tibet oltre che essere presente in numerose nazioni occidentali indice 1 origini e sviluppo 2 i testi 3 le dottrine 4 il varaina di tradizione cinese e il varaina di tradizione tibetana 5 note 6 bibliografia 7 voci correlate 8 altri progetti 9 collegamenti esterni origini e sviluppo la cacra la forma assunta dal buddha per esporre il clacacra tantra al re di sambala su candra ma vai rocana coreano dai li ora e in una statua coreana le mani sono poste nel gesto di somma illuminazione body agri mood l'indice della mano destra è avvolto dalle dita della mano sinistra il che indica che la realtà assoluta l'uno è avvolto dalla realtà fenomenica il molteplice secondo la storiografia contemporanea il buddismo varaina compare in india nel vi settimo secolo dc esso consisterebbe in un sincretismo tra alcune dottrine hinduiste denominate tantrismo fondate anche su credenze popolari sciamaniche con il buddismo mayna i suoi testi fondamentali denominati tantra sono databili intorno a quel periodo se questi testi si fondano o meno su tradizioni orali precedenti è argomento ancora oggi controverso e discusso secondo la tradizione varaina invece le proprie dottrine sono assolutamente ortodosse e hanno origine tra gli altri dallo stesso buddha chiamuni secondo tale tradizione il buddismo varaina è la forma di buddismo sviluppatasi a partire da quello che è stato definito il quarto giro della ruota del dharma da parte tra gli altri del buddha sa chiamuni alla classe di discepoli aventi i requisiti necessari e comunque spiritualmente più maturi in accordo con tale tradizione l'assemblea di coloro che apprendevano i tantra dal buddha era composta in gran parte da esseri non umani come i deva o i bodhisattva trascendenti così la storia sacra del varaina narra che ad un anno dall'illuminazione lo chiamuni espose sul di a karaka parvata picco dell'avvoltoio montagna esistente in india situata nei pressi di raggir nello stato indiano del biar loata shasrik prajmi pramit stra sottra della perfezione della saggezza in centomila stanze mentre contemporaneamente assumeva la forma di clacacra ad inyakaka nell'andhra pradesh india meridionale per insegnare dentro uno stupa apparso improvvisamente il clacacra tantra al re su candra a sua volta emanazione di varapi re di sambala peraltro è opinione dei seguaci del buddismo varaina che sia impossibile comprendere la genesi di questo buddismo partendo dalle ordinarie concezioni spazio temporali per gli storici contemporanei questa narrazione è puramente mitica essendo a loro detta il clacacra tantra uno dei testi più tardi del buddismo varaina risalente non prima dell'x secolo nel parere degli studiosi contemporanei il buddismo varaina si formò sul tronco del buddismo main anche se insegnamenti tantrici possono essere ascritti ad alcuni secoli precedenti da quelli finora identificati 1 dal punto di vista storico possiamo affermare con certezza l'esistenza del buddismo varaina a partire dal settimo secolo quando è accertata la presenza in cina di maestri tantrici come uva carasia a changan nel 716 e varabodi a luoyang nel 720 la presenza di elementi tantrici possono essere comunque riscontrate nelle parti risalenti al quarto secolo circa di alcuni sutra mayna sutra del loto vi malacriti mir de sastra un primo testo tantrico potrebbe essere il ma miur risalente al terzo secolo dici la presenza di elementi tantrici può essere tuttavia riscontrata anche in testi appartenenti al buddismo dei nicchia le congetture storiche sulla nascita del buddismo varaina ci dicono della possibilità della presenza di maestri itineranti detti sinta ovvero detentori del potere sacro denominato suti iconoclasti e critici nei confronti del buddismo main a tradizionale in quanto considerato troppo intellettuale e successivamente indicato come pramitana veicolo della perfezione i quali crearono circoli segreti per trasmettere dottrine e pratiche esoteriche a te a far realizzare rapidamente l'illuminazione il progressivo sviluppo di questi circoli permise nei secoli successivi l'istituzionalizzazione di questo nuovo buddismo e il suo ingresso nei monasteri così nel settimo secolo il monaco buddista varaina viveva insieme ai confratelli appartenenti ad altri buddismi veniva ordinato seguendo il vigna del buddismo dei nicchia seguiva i precetti del buddismo main a ma praticava le tecniche varaina i testi immagine di cai 774 trattino 835 fondatore della scuola buddista giapponese varaina shing on con la mano destra regge un baggerà jack kong show mentre con la sinistra tiene uno jutsu un dipinto tibetano del quattordicesimo secolo raffigurante buston buston rinchen grab 1 2 9 0 trattino 1 3 6 4 a sinistra e il suo successore a destra buston maestro di scuola sacchia fu l'autore della suddivisione in quattro raggruppamenti dei tantra nel canone tibetano i testi tantrici del buddismo varaina sono presenti nei canoni buddisti cinese e tibetano nel canone cinese i testi tantrici sono prevalentemente raggruppati nella sezione mija obu td dal numero 848 al numero 1420 nel canone tibetano questi testi sono inseriti nel can giur mentre i relativi commentari nel ten giur i testi tantrici furono divisi nel can giur dal dotto tibetano buston buston rinchen grab 1 2 9 0 trattino 1 3 6 4 in quattro raggruppamenti 2 kri tantra timb biar giud che rappresenta una raccolta di sutra mayna contenenti elementi tantrici non ancora sviluppati autonomamente tra questi testi suvara prab shao tamastra inserito nel canone cinese al td numero 663 664 e 665 bayaya guruvai raya prvap raid na inserito nel canone cinese al td 450 punto 14 punto 404 trattino 409 subupare pcc tantra inserito nel canone cinese al td 895 punto 18 punto 719 trattino 746 sussidi karamatantras danopika pala anche sussidi tantra ti blegs par grab par bide pair giud 100 polas sgrub paita bs rimpar fiebia conservato nel canone cinese al td punto 8193 punto 18 punto 603 trattino 692 di nottara cari tantra team spioder giud che rappresenta una evoluzione tantrica rispetto alla precedente raccolta il cari tantra contiene infatti pochi testi il principale dei quali è il mavairo can visabo di vikur vit dina in tiberi nampars nanem zad c'è un po mongon par zoghi e se par bianccia bp arnam pars prulbi a bingy serlo bp asci inturgia spia md usd di bang for g al posce sbia biai chas g y a iran grans inserito nel canone cinese al td 848 da notare che mentre un caratteristico sutra mayna come lavata sa castra viene esposto dal buddha vairo canna questo sutra è invece esposto dal buddha ma vairo canna ovvero dal buddha grande vairo canna come per rimarcare una presentazione della dottrina più profonda rispetto alle stesse dottrine mayna questo sutra è al fondamento del buddismo varayana sino giapponese con particolare riguardo alle scuole giapponesi shingon e tendai altro testo importante di questa sezione è il varapia bieca yoga tantra tiber renal biorgir giud dove il testo esemplificativo è il sarva tatgata tatva zagra ha inserito nel canone cinese ai tdnn 856 866 882 in questa opera si descrivono i cinque stadi della realizzazione della buddhita da parte del buddha ma vairo canna e vuole essere una dimostrazione della superiorità del varaina rispetto al pra mitana in questa opera vi è anche la descrizione del bardi tu mala tibro rj e di bing skid ki il core mala dello spazio di diamante che aggiunge alle 37 divinità del mala anche alcuni bodhisattva femminili come a segnalare uno sviluppo dottrinario rispetto al cari tantra altro testo fondamentale di questa sezione dei tantra è il brand pra mitna yata pancati inserito nel canone cinese ai tdnn 240 241 243 esso rappresenta con le sue immagini erotiche dell'energia sessuale sakti il punto di passaggio verso la classe successiva degli anuttara yoga tantra altro importante testo di questa sezione è il varai karastra vi sono tre traduzioni nel canone cinese di questo testo quella di amogavara è la più diffusa in estremo oriente anuttara yoga tantra tiber renal biur blamed giud questo raggruppamento è quello più recente e comprende testi ed insegnamenti che sviluppano l'utilizzo della sakti energia sessuale nelle pratiche yogiche peraltro già presente in alcuni yoga tantra in questi testi compaiono delle indicazioni anche sul consumo della carne e delle bevande alcoliche consumo proibito in tutti i vini e quindi bandito dai monasteri buddisti la nutara yoga tantra o yoga supremo viene suddiviso in ulteriori due categorie tantra padri sanscrito pittantra tibetano far giud in cui vengono raccolti i testi e gli insegnamenti miranti a realizzare la vacuità dei mezzi abili sanscrito upia ea comprendere il modo in cui il dharma ea chi ha si presenta nel mondo fenomenico tra i tantra padri vengono raccolti per cui a sanja tantra o guia sanja tantra tip di palce sang via d'uspia irgiud conservato anche nel canone cinese alti di 885 esso rappresenta il testo principale della raccolta altro importante testo è il bar amabia irava tantra tiber dorgi league speed c'è un po il giud tantra madri sanscrito e tantra tibetano margine in cui vengono raccolti i testi e gli insegnamenti in cui si mira a realizzare l'assorbimento dello stesso dar mechia in questa raccolta vengono inclusi i tantra di varaiogeni e di ma maia una terza raccolta viene indicata come tantra non duali sanscrito advaiat tantra team gnees medir giud per la scuola gelugpa tale indicazione inerisce a tutto la nutara yoga tantra per la scuola kg pa questa raccolta comprende il solo clacacra tantra team doschi corlo tantra di clacacra per la scuola sacchia pa a questo raggruppamento appartiene le varat tantra già team kair dorge z h s b a b a r g u kir g al po tantra del diamante di gioia in altre scuole questo testo è considerato un tantra madre le dottrine vagera tibetano a nove punte per dorge rts e gp a questo tipo di vagera viene utilizzato per le pratiche delle deita i reit il buddismo varaina è secondo le proprie credenze uno sviluppo del buddismo meina non si può entrare nel varaina senza aver prima compreso profondamente le dottrine del meina come la dottrina dell'oniat della compassione karu della bodhicitta e della natura di buddha compresa in ogni essere senziente secondo aspetto fondamentale del varaina è che esso può essere appreso solo per mezzo di una guida di un maestro sanscrito guru tibetano blama olama japshi ciò premesso questo veicolo buddista si fonda sul termine tantra che significa continuità questo termine designa l'autentica natura che soggiace all'intera realtà sia essa relativa al sasra o allo stesso nirva questa natura corrisponde alla vacuità quando la vacuità si manifesta si manifesta attraverso l'illusione dell'esistere mila tibs ghiufrul di r a via quando si riconosce la vacuità che soggiace ai fenomeni si diviene illuminati il tantra è la via che conduce a questa consapevolezza il termine tantra non riguarda quindi solo i testi ma anche le relative dottrine il veicolo tre buddista che trasmette le dottrine dei tantra viene denominato varaina il varaina a detta dei suoi seguaci si distingue dal maina perché a differenza di questo veicolo persegue il principio del frutto sans fa la team bras v jack k e non delle cause san si i tuoi tibri ghiuf japan secondo il varaina infatti il buddismo maina indicato anche come tramita in a veicolo delle perfezioni o straina veicolo de istra persegue per mezzo della meditazione e dello studio dei sutra un cammino di perfezionamento attraverso la rinuncia delle condotte negative accumulando meriti e saggezza per realizzare il frutto del corpo assoluto darme ichia e quello dei corpi formali er pacchia per il maina quindi il cammino percorso è la causa dell'illuminazione il varaina invece persegue il principio del frutto ovvero per tramite dei mezzi abili rappresentati dai tantra questo veicolo conduce alla purificazione del corpo e di ciò che lo circonda tantra inferiori o esterni kri tantra cari tantra e yoga tantra ea trasformare la dimensione in pura in pura tantra superiori o interni anottara yoga tantra questo percorso della via del diamante può essere intrapreso secondo questa tradizione buddista solo attraverso delle iniziazioni sansa bieca team di bank scurbi a giaccan gerie conferite da un maestro di bacera barcaria a seguito di ciò il discepolo riceve degli insegnamenti orali sans gamma t blank giacca gan ovvero dei testi da studiare e delle istruzioni per realizzare la pura visione della realtà il discepolo del varaina applica il metodo del sdana strumento per la realizzazione che raccoglie varie tecniche iadevat tb psy londam giappon son visualizzare la divinità scelta per la meditazione mala team di k y l core giac mandara visualizzare il sacro ambiente circostante la divinità prescelta per la meditazione team viaggia giap in scompiere gesti rituali e simbolici pigia team e coppia giac cui fare offerte alle divinità mantra recitare formule sacre san lucrati svolgere azioni religiose per tramite di questi mezzi abili uniti alla consapevolezza della vacuità e della purezza di tutto il reale il discepolo consegue il frutto che consiste nel completare ora di buddhita tale frutto può essere conseguito in più rinascite via dei tantra inferiori o in una sola vita via dei tantra superiori il varaina di tradizione cinese e il varaina di tradizione tibetana dalla fase di compilazione della classe di scritti dello yoga tantra ottavo secolo si passò alla classe degli anuttara yoga tantra decimo secolo circa o tantra dello yoga superiore il buddismo variana fiori principalmente in india dove però si estinse insieme alle altre scuole buddiste attorno al tredicesimo secolo ma si diffuse a java come testimoniano i cicli scultori di borobudur in cina in giappone nella scuola singon in asia centrale e solo in seguito in tibet in accordo a diversi maestri si parla di 23 o 4 classi di tantra e questa ultima suddivisione è stata portata avanti dal maestro nagarjuna il quale era un praticante nonché detentore del guia samaya tantra un tantra madre verificare le quattro classi di tantra sono il kriya tantra il karia tantra lo yoga tantra e la nutara yoga tantra o yoga tantra insorpassabile nel sistema ning mappa le prime tre classi di tantra vengono definite esterne e comprendono solo lo stadio di generazione ut pati crama in sanscrito e kairim in tibetano mentre la nutara yoga tantra è uno dei tre tantra interni e in esso vi sono entrambi gli stadi di generazione come divinità e completamento con la pratica di controllo e assorbimento dei venti dei canali e delle gocce prana nadhi e bindu in team è rezza lang e tigle nel sistema ning mappa del buddismo tibetano vi sono due ulteriori classi di tantra lano yoga e lati yoga lano yoga corrisponde unicamente allo stadio di completamento mentre lati yoga corrisponde al risultato stesso della pratica il risultato il dharma i che hanno nato è il principale oggetto di meditazione per il praticante ed è esattamente la natura di buddha la tata gatta garba dimorando senza elaborazioni mentali dualistiche nello stato naturale dell'amante tamal g yi shepa in team non vi è la necessità di purificare le oscurazioni né di accumulare le positività il risultato è il sentiero stesso siccome viene presa come sentiero la stessa tata gatta garba accumulazioni e purificazione avvengono automaticamente con il focalizzarsi sulla natura di buddha ed è possibile saltare ingegnere skip sentieri e bumi e ottenere il risultato definitivo ed irreversibile in un breve periodo di tempo il mai yoga primo dei tantra interni in accordo al lignaggio che deriva dal maestro praevara team garab dorge che per primo diffuse gli insegnamenti del maati yoga team ok chen si suddivide in tantra padre tantra madre e tantra non duale nel tantra padre viene posta più attenzione alle pratiche relative al metodo e alle pratiche di nadi prana e bindu mentre nei tantra madre si dà più attenzione alla chiara luce e nei tantra non duali in entrambi questi aspetti vengono praticati simultaneamente i dam di tantra padre è per esempio devo riguardare di tantra madre e ruka chakrasa ambara e dei tantra non duali cala chakra e vara ut patty crama lo stadio di generazione e sampana crama lo stadio di completamento sono il cuore stesso del mantra yana ma vi sono pratiche che prescindono dai due stadi come la ma mudra essenziale e il maati yoga che sebbene possano fare temporaneo uso dei due stadi in definitiva dono indipendenti e non sono veicoli graduali come i tantra esterni e il ma e yoga che è l'equivalente della nutterà yoga tantra lano yoga è caratterizzato da una visualizzazione istantanea del mandala e delle divinità e dai praticanti della nutterà yoga tantra è spesso equiparato allo stadio di completamento scr sampana crama lati yoga è caratterizzato dall'auto liberazione nel dharma dato il riconoscimento immediato del dharma e chia e consiste nel dimorare nella propria natura di buddha sugata garba e in questo modo il risultato della buddhita è realizzato nella maniera più rapida come nel caso della meditazione di ma mudra che discende dal buddha varadara e dai maa silva dell'india come sarà metripa cucuripa tilopa naropa virupa in accordo ad alcuni il varajana è la forma di buddismo diffusa in tibet tanto che spesso per buddismo varajana ci si riferisce al buddismo tibetano sebbene non si tratti dell'unica forma di buddismo praticata in tibet e che in passato si sia diffusa anche in altri paesi dell'asia la forma di buddismo presente in tibet racchiude puramente lo sravacayana il bodhisattvayana e il tantrayana ma essi vengono insegnati separatamente a seconda delle necessità individuali di ogni praticante quindi definire il buddismo tibetano come essere unicamente varajana è errato sebbene degli elementi del varajana siano presenti un po in tutte le pratiche buddiste praticate in tibet e in zone himalayane limitrofe al di fuori dell'area culturale del tibet cioè nel sic kim ladak butan che ring ai mongolia calmucchia muriazia e aree del nepal dello yunan del gansu del si chuan il buddismo varajana si è sviluppato in giappone scuola shingon e sta avendo un notevole sviluppo nei paesi occidentali attraverso la diffusione delle quattro tradizioni principali kaji yu ning ma sakya e gelug del buddismo tibetano grazie a tutti grazie a tutti